I don't know bro I don't know bro Però ho ordinato i waffle Ha attivato il wav? No, ho ordinato i waffle I waffle 20 ore di waffle Madonna E' impazzito Ho fame dei waffle Non è che se mangio qualcosa Ho i waffle Non ho niente in casa Eh giustamente ordiamo i waffle Eh si Non qualcosa, hai capito? Bello Di mangiarvi, di salutare No, l'ho fatto io, l'ho fatto io Mamma mia Se non ci fossi io Se non ci fossi io Oh mio dio Aiuto Arriva brodi Ah Ah Ma perchè? Perchè mi devi finire? Ti sta sparando Livius Ti sta sparando Livius Ti sta sparando Livius Perchè mi devi finire? Ma perchè? Ma perchè? Dico io Ma perchè? Non ha senso tutto ciò Subito Subito Cristian Nooo Con le 50 stelle Subito Cristian Buonasera Un saluto a Jamil Chi è Jamil? Troppo l'ultimo perchè Dove sei? Non mi dite niente Giocate voi Come giochiamo noi? Siamo morti Sei un grande Che cosa? Io Posso scegliere a run? Sei un grande Svegliatevi Albi Quindi stai per andare a 5 bro Ah un'amica a Dubai Salutiamo un'amica a Dubai Magari ci manda un bel bonifico Un po' un po' di stelle E ci servirebbero Eh sì Signor Cristian Signor Cristian abbiamo bisogno di un po' di supporto Per mantenere il canale Un bel bonifico dal suo amico a Dubai Non si può avere? Ma accontento anche di una vacanza Ma perchè ha fatto questa stronzata? Qualcuno me lo può dire perché ha fatto questa stronzata Oh sapetevi Oh Piro Cacchio ma sei dimenticato di mandarmi il contatto dell'amico suo Che fa l'overclock È davvero? È davvero Oh Oh ma ce l'hai dietro? È impazzito Per davvero Ma Piro slam? T'ho accorto perchè a Dubai hanno strana idea Cioè Cos'è che hanno strana idea? Ma no mi dissocio Vabbè Piro lo lascio a terra Mi dissocio Facciamogli abbassare il KD a Piro Tento passi? No vabbè Il cazzo è che me la sto Mamma mia Ale Nooo Mamma mia Ale Mamma mia Alzo le mani maresciallo maresciallo erano in 18 camirà milcaner camiri promotionsano e giallo ma ha preso appogno peanın pepreso gli ampi poi buonasera roberta mai con il pack atmo sunrise e roberta s'è disponibile ha capito fai fai eco Annaccia tutto No perché non ti avevo disattivato sul gioco Frapposto ho fatto io Ma come cazzo ti permetti Ergognati Oh non mi hai mandato più il contatto dell'amico che fa gli overclock Vabbè prendono gli schiaffi questa buonasera Matteo Sanso ma la sera Lorenzo Non c'avevo l'arma giusta per farlo Ma che stavi facendo nel frattempo che non potevi rispondere a nessuno Fammi capire Stavo facendo il tampone zio Ma non quello del naso Quello dentro il sederino Ah quello si lo faccio tutti i giorni E' molto bello No mi dissocio Ma se a lui piace E' bello il tampone Annaccia vai a terra bro Ti stavo dicendo Non mi hai dato più il contatto di quello che fai Orca miseria ha pushato uno Quazzo Ok quello ride Quello ride Dove sono i friends guys? E quello ride Dove sono i friends boys? Vino ti sarò io amico mio Diti qua amo Dove sei? Wow Comunque io perdo tutti i fight quando metto la pistola raga C'è quella pistola di merda Tengo una pistola praticamente Basta adesso ci penso io Io sono i tiktoker Oh mi mandi il contatto di quello zio Mi devi ingegnare allora che palle Dai stai messo in giro Sì sì te lo mando zio Un secondo mi devi dare Ci sono troppe cose insieme E non riesco Devi essere multitasking Multify Di che parliamo? L'attore amico? Davvero Sì l'attore davvero Oh nemico sopra di noi Credo che l'abbiano laserato di brutto I think No I don't think Ok l'ho fatto io Ciao Assurdo Buonasera Davide Zozio Buonasera Al momento no Oh questo Al momento no Giancarlo Bro Io mi tengo libero di solito il mercoledì e il giovedì La sera Per i sostenitori che abbonano dal canale E al momento perché sono impegnato Se no se ci fossi di pomeriggio Di solito qualche volta streamo a ora di pranzo Quando posso Ad ora di pranzo se sono libero Gioco con tutti dalla chat Però la sera Sono un attimo Aspetta Dov'è? Dov'è? Ma chiamalo dov'è? Ho fatto uno sotto io eh Dai Ale Dai Dov'è? Dov'è? Piru? Riccato Vedete parlare? È rara Guarda guarda Meno male che ho capito che questo era nel angolo Ecco c'era un altro c'era un altro C'era un altro guazzo arriva Mi ha i massi Ciale Ragazzi mi hanno detto Adesso Serio? Non mi di sotto A terra Mi sentito Che state combinando Dico io Mi hanno detto Nice i massi Ma se sei da mouse e tastiera Ma che hai massi? Qua stiamo facendo la gara Wager Chi perde 800 euro? Va bene Ci sto No ma come? Ormai è detto Ormai è detto Ormai è detto Ormai è detto Ma voglio vedere quando me li dai Ma che cosa sto sentendo? Ma dove ti ho ucciso il zio? No 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 zio Zio Perone Zio Perone Va Divi dove ti ho ucciso? Che ho sotto Tim Nel siderino Mi ho ucciso Ah intendi la posizione della mappa? Piro ne è uno a sinistra Sei un piro bot Oddio Tik Tok Oddio Oddio Mincia che Tik Tok Di seconda categoria Dai non mi fa ride Scusa che dovevo C'è guazzo Se lo fa guazzo Che chi è sparato? Qua Ale Ale Qua Dai Ale Ale Dove sei? Ale Oh E' con me zio Ero poi andato pure a terra L'ho dovevo salvare la vita Odio pubblico Il Tik Tok Ma che Tik Tok Vai facendo tu? Oh certe volte Oh certe volte Lui fa Il Tik Tok Oh Del Tigre Eufrate Oh 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 No sono da solo Se fanno tutto il casino La prossima Ti gioco con Scooter RPG Non posso giocare così Non sei non un cazzo raga Minchia Piro Ma non è che Dio se sei un vero player Devi sentire anche quando la Warzone c'è anche Se sei un vero player ti devi mutare Minchia ma a parte quello Dio la Warzone c'è anche nella vita reale Il 60% di Dio 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 Pubblicare il Tik Tok Dierisera Lo sapevo Lo sapevo Hai visto Lupo Guarda che ritorno Sto ritornando Zio Cinque secondi Lupo Zitto Zitto Guarda guarda Che rimasto one shot Guarda guarda No vabbè Zitto Zitto Vai a restarmi C'è soldi C'è soldi Oh oh Che laggata ha fatto Guarda lì Guarda Guarda lì Guarda Dammi gli stiti 800 euro Bravo È un porno Non mi dissocio Date Missio 800 euro No Ah missio 800 euro Vai che hai perso la scommessa Ma che cosa ho perso Brodì Oh Dio Oh Dio Sono qui da me Dai Mamma che scommone Questo da dove è uscito Dai che ti ho salvato Lupo È one shot Gia che sparagli Ma mi fa Mi fa Mi stavo silingando Bro Questo l'avevo messo anche a terra Quindi era mia a prescindere No Dio Ma che stai dicendo Che l'avevo messo a terra Bro Vabbè Non farti io la kill Comun silenzio Vabbè Dov'è No no Bombardamento Ma che cosa la vedo In azco In azco In azco In azco A terra uno Chi è che mi ha Mi ha scurato Qua Lupo 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 No puoi anche restare Se Lupo 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 Vi tiro a Ti ho tirato Il bomba Dai dai Sarà sceso sicuro Fra E' qua Dentro Dentro la casa Comunque ho vinto Il wager Voglio Voglio I quindi 800 meiner Ho gli 800.000 euro Ale, Ale, Ale Dai, lo devo fare io, dai lo faccio io Let's go Abbiamo vinto noi Subito la win Subito con la win Hai detto ci stavi Eh appunto, io, Piro e Ale contro te Ma no, no La sfida era tra me e ti Quante kill hai fatto? Hai fatto 10 kill, io 15, dammi 800 euro Non abbiamo firmato niente Mi spiaggia Signori, siete tutti testimoni Scam, scam, mi ha rubato 800 euro Scam No, lui ha detto di no, ha detto di no Scam, scam, mi ha rubato 800 euro Signor Giorgio Buonasera, Marco Com'era io contro l'oro 3? No, 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 io volevo fare contro Livius e basta Eh sì, è bello lui Adesso solo contro di me Facciamola adesso, 20 euro Adesso E' un po' vincitino Non è giusto Facciamo sette ore e cinquano 10 10 Vabbè, dav Lascia stare Va tranquillo Oh Va a proposito, dobbiamo avere ancora il premio del Witcher vinto insieme Anch'io non l'ho vinto, non l'ho visto zio Ok, ho messo il TikTok, ora ti taggo subito Con chi hai fatto il suo TikTok? Con te, quello di ieri zio Quando l'hai messo? No, lo sto pubblicando Ah, ok, ok Dai, signore Vai, vai, si va su TikTok, signore Tutti quanti su TikTok Dai, dai, dai Ragazzi, mi raccomando Like, condivisioni, polliciate Punto esclamativo Scam 8%, 89%, 91%, 92%, 93%, 99%, 92%, 93%, 99%, 92% Calma, calma Tu non ci arrivi così a fine serata Buonasera Alessandro Grazie mille per il follow Benvenuto Buonasera Fabio Buonasera Rubo, bella vittoria Dai, 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 dai La prima, eh, ero freddo Rubo, ancora non avevo giocato Privacy Livio, anche te Quale privacy? Taggami, taggami Taggami Vai, vai, vai Che dopo mi dai diritti di immagine Io ti immagino ogni sera No Anche io No Grazie mille Gabriele Buonasera anche a te Benvenuto Ah, vabbè, che sta succedendo Questo trio è Oh, allora Uno, due sole cose O è senza speranza Quartetto in realtà Però, eh O è senza speranza O, eh Non lo so Per davvero Meno male, amici bravi Forse per te No, mi dissocio da Mario Mi dissocio da Mario, vedi Signore, non prendete esempio da Mario Mario il dromedario? No, come Mario il dromedario? Bella, bella, bella Ragazzi, andate tutti a commentare Il my fucking new lupo bianco TV reaction clip, please Io ti rannuncio Bello sto annuncio Ti devono prendere Nelle pubblicità Della Rai Secondo me Ti devono infilare in mezzo No, ragazzi Eh? Non lo so Lui far puia Nel frattempo Ma sei sicuro Che quando sei andato Con i colleghi Tutto a posto Non è successo nulla? Eh, un pochino è successo È successo quello che doveva succedere Cioè Eh, mo Ma muto Cioè, muto nel senso il gioco Perché mo devi raccontare Assolutamente Siamo curiosi Che è successo? No, no, devi raccontare No, no, proprio non è successo niente C'era un po' di gna gna Ho bevuto Cajin tonic di troppo Parlava di Nandese Non capivo Hai iniziato a parlare Tutte le lingue? Comunque C'è stato un momento Aspetta, chi è arrivato Col pdf di Luca del sordo? Buonasera Luca del sordo Vabbè, vabbè, vabbè No, no, vabbè Va bene così Va bene così Ma che casino state facendo Siete una parola di valori In realtà è piro Allora Ho vincito in occhio Oh Oh Vieni a dirimelo nel face Oh Vieni a dirimelo nel mio occhio Senti, senti il lupo reaction Sì, vabbè Ma Luca è facilmente impressionato Io sì, a voglia Policrotta per due Poi quando Quando mi offro un bel gin tonic Parlo 18 lingue Ritorno Vivio, ma ieri sera ti è venuto No Sì No, ma non sai che cosa Quello già dice No, no Io ho detto sì Io non riesco a giocare Serio così Comunque State boicottando le partite Dai Ale Fai la colpe, però Qualcuno a terra Qualcuno a terra Ci sono io Ci sono io A terra uno A terra uno L'altro sulle scale L'ha fatto Tu non ti riesci Qua raga Guarda che sono troppo forte Guarda che contatto Contatto L'assistenza di Activision Di segnalo Di segnalo Avevano lanciato Una granata A pesce Da lenza A pesce lesso Che cazzo sono i miei waffle Porca di una trota Eh, al momento È sparita un attimino L'ordine sta arrivando Sì È a cittadina di me raga Guarda siamo a Non abbiamo soldi Siamo a 500 Eh, 500 Siamo a 5.000 4.000 Che è? Qualcuno si è perso I soldi per strada? C'ha le tasche bucate Davvero Mannaggia a voi Oh Due ore che ti aspetto Come due ore che mi aspetto? Io di solito attacco Alle 9.30 Ho attaccato A 9.40 Bravo Michael D Dove va ragazzi? Eh Uì Ma Ho capito Ma che su Come ragazzo Come ci sono No Ti ho i soldi? No Che quello si viene in chat Te ho dato i soldi Guarda questo Dove me ne ha lasciato i soldi Aspetta che arrivo Nelle tende Fra Vabbè Ma è Adesso lo può Se viene Mark Supergamer In chat Guarda che la notte è venuto Ma che è venuto È venuto Quando avevo l'evento Che mi avevano messo Nell'evento di facebook È venuto a salutarla in chat Bella figura Che abbiamo fatto Ma sei serio? Sono serio Ma che me Mi stai burlando No 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 C'ho la foto Qualcuno può Devo scendere a prendere Waffle un secondo Torno subito Dai raga Però che palle Pure i nemici Mi fottono le kill Eh Vorrei dire Si dipende Vabbè Sei da solo Guarda dove sei andato Nelle casette al living Da solo Annaccia Lo zio Mark Lasciatevi stare Lo zio Mark Non mi ha scritto Piro Vieni nelle private Ma io sono stato bannato Tutte le private Che vero è perso Meno male Che è stato bannato Oh guarda quello Guarda Sono stato bannato Mi hanno bannato Da quasi tutte le private Meno male Ma forse sono un po' di merda No hanno detto che è citto raga Mi hanno detto che è citto raga Mi hanno detto che è citto raga Mi cansevo Mi cansevo Oh vedi che ho fatturo Aiuto Mi si fa la mano Io sto prendendo i waffle Dai non finire i wife E i wife all Che caccio è Vabbè me li sono fatti io No Sono seri Mi volto ai no Sono seri Wow World time Questi sono Sono inglesi Ma proprio quelli di fish and chips Mi sono raga Ho preso i waffle Quello che così dolce No 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 Oh mio dio Finché ho fatto le scale Al piattone Aiuto Aiuto Hai vinto con la run Albi Allora Io qua Ho due tre ragazzi Che fanno la fish and chips Allora mi serve una mano Non c'ero Dove è stato Ma questo Ma che cazzo era Caccio tu Sul tetto mi sa Ma che succede Mangio prima quello alla banana Immaginavo che stavo qua raga Che palle Mangio prima del waffle alla banana Oh ma questo è tornato C'è incazzato C'è incazzato parecchio Bravo Ho bisogno di pulizia in casa È un po' sporca Per davvero Oh Non è che arrivano da sotto Vabbè Oh Questo c'è il nome di una L'altro è sotto Sicuro Ma Ah no Qua L'altra casa Aspettate No Non posso No Beh mi sono fatto individuare Mamma mia Mamma mia Ve lo giuro Il manicomio È più tranquillo di voi Adesso arriva Ma si è venuto la piastra Non ci vado Mi serve una mano qua al suo Eh so due adesso Uno a terra Due vivi Eh niente Niente No Gliel'avevo detto Eh vedi Adesso sai come ti si sente No no Non va bene Io non ci sto capendo nulla No vabbè Pino Forca puttana No no Calma Calma No Signor Domenica Ho bisogno di una mano Per buttare fuori un po' di gente Vieni Vieni Sì vieni Questo quartetto non sa da fare Ci sono io Mamma mia Quell'altro Quando urlo Dopo mi resti Dammi un attimo Che c'è gente Ma gente dove Dio Ma è davunque Io dico Che siamo pericolosi Cioè Io non ci sto capendo nulla Da quando è iniziata la partita Oh è Oh mi frega sempre le piastre Raga Cioè C'era C'era C'è qualcuno ancora qua Salite salite Fate qualcosa C'è uno sopra Quello ride E vabbè Sfroso tutto Che significa tutto ciò Ci sono io Ci sono io L'ho messo a terra To To Oh oh I do quarter I do quarter I do quarter Oh mio dio A terra i do quarter Ma aiuto Ma aiuto Aiuto Il lupo che Questa risata mi sembra solo C'è chino c'è chino C'è chino c'è chino Ah ah No No Vabbè basta Mi è arrivato giù Fra Oh No raga Questa qui Non sbaglio un cazzo di colpo È una barzelletta Arriva uno dal volo Qua dal cielo Da Marte Sta arrivando Questo No Porca boccana Porca due Raga 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 Ma ecco Sbattoli Oddio Sminato quel drop shot No raga Ma come state morendo sotto Io non mi posso spiegare Quello che Ho sbagliato Io ho lasciato Ho aperto la porta Questo Oh ma qualcuno Pannaggia tutto Guarda quello Guarda quello Guarda Craccati solo Io cracco Sono tutto il team Come prima Porco due No che ho fatto Sono un cretino Sono un cretino Sono un cretino Ho sbagliato il coltello Eh vabbè dai Siamo a Adesso sto a dieci Ciao Marco Benvenuto Buonasera Benvenuto a L'uvo casinobia Scusa L'uvo manicomio Bianco No vabbè Guarda qua Guarda Ma non si può avere Anche qua Un waffle Grazie No 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 Dai raga Ok da solo guazzo Mannaggia Gandalf il bianco Mi sembra logico Viva Gandalf il bianco Buonasera Marco Gandalf il bianco Mannano Beh potresti cambiare nome In Gandalf il grigio C'è una lingua di legno Zio Perone Carlo Zio Perone Quazzo C'è dietro Quazzo Quazzo Dietro Quazzo 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 Pronto 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 Com'è possibile Che non lo sento Vabbè guazzo Quando vuole Ti volevo dire una cosa Io stavo con le mucche mutate Ti stavo un po' trollando C'è veramente dietro Io stavo con le mucche mutate No Aiuto Dai raga Mannaggia questo Sono morto Io sono morto Calcolate che sono morto Dai ma stanno fermi Nella cazzo di casa Hai visto quello? Ma non è sto waffle raga Un waffle a limone? Ma invece di mangiare sto waffle Dammi una mano Piro quanto c'è di KD per curiosità? 4.15 Ma in realtà ne dimostra 1.50 1.50 in realtà Vedi Anche Anche nel mio team Non solo il chat Oh no Sono un cretino Dimostra 1.50 Oh intanto ce ho 10 kill O più di tutti quanti voi Ho capito Non mi aspettavo che ci fosse un Un babbacone lì Che cacchio stava facendo Lo sa solo lui Stavo scappando Ma avete lasciato da solo C'è una partita Tutti con scudo RPG Dai Eh vabbè Tutti quei cazzotti Dai Sì a me piacciono i cazzi Otti Ottici Ho sentito un Pia a metà Ma Zugenberg Ma Zugenberg Zuga Zuga Come si dice Zuga La prego Qualcuno Lo facesse Ma che vogliamo Facci vogliere Ma la vuoi una camomilla Ti do una camomilla Ma ci vogliamo guardare Lizard No Chi è Lost Chi è Lost L'Apostolo Eh Sì L'Apostolo Mi ricordo ancora Il mio nuovo TikTok Grande Grande Lupo Bianco Bot Si chiama Che bello È molto bello No No vabbè Giuro 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 che questo Lupo ci sono un camperone di merda Ieri Io mi dovevo mettere Con le mine Granate Scudo Bazooker RPG E tutto buttato la terra Allora Un camperone No vabbè Che sta succedendo Vergognati Vergognati Bottarello Lupo Allora Ci sono ragazzi in chat Mi raccomando Eh Se no Quasi allaga la chat Fermi Datemi una calmata Mi ricorda ancora la frase In cui esordi la prima volta Mi fa piacere seguirti Il suo ragazzo bagato Educato e sincero Poche parolacce Schiamazzi È molto divertente Eh Guarda che sta succedendo Allora Perché dopo aver Raccolto qualcosa Si va in avanti Indietro Sinistra e destra In maniera convulsiva Non so da tanti Io lo preferisco È il momento migliore Per killarli No Non è vero Perché fai smirare molto Fai perdere molto la mira In realtà Quando Quando becchi qualcuno Di faccia Per perdere molto la mira Non è facile Comunque Se inizi a fare così Tata 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 Vabbè In realtà La chassare che da padre Non viene bene Ma da maio stasera diventa devastante Chissà che dopo si deve vedere la replica Buonasera Alex Buonasera benvenuti Benvenuti Non fatela a casa Non fatela a casa Non fatela a casa Bro un'ora al giorno Se volete vedere Un'ora al giorno con lui dopo un mese Fa un milione di visual Oh ma ci sono tanti tiktok Che dobbiamo pubblicar Non mi va più il telefono Bravo metti Metti il coso del riciclo Don't try this at home Attenzione Blues 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 C'è tostelle di blues Oh raga Dove andiamo dove andiamo Dai 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 Tutto bene tutto bene Tutto bene si vola si vola Grazie mille per le Grazie mille per le E tu sei le broda che devo fare lenti bombette Ma tu perché non vieni qua Piro Ma andaici quei porchi Andiamo Andiamo Sono qua Sono qua Sono qua Tu ho lasciato i soldi Calma Oddio Mamma mia Senti ma in Olanda Gira roba buona mi sai Mi so Ma forse no Mi sono stannato Mi sono stannato Fate questo uovi Quell'altro si stanna da solo No mi sono stannato per P.L.O.D.O.T. Un saluto al coniglietto Ciro Signore Un saluto Ragazzi se volete vedere il tiktok di lupo bianco Andate su olipop No 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 Non si dice quel nome Perché? Non si può dire O.F. si dice Ragazzi è scema Non lo puoi neanche scrivere quella roba Non vedi che su tiktok lo scrivono mai Mettono O.F. Lo mettono in In diminutivo Mettono i cuoricini bianco e azzurro Sei proprio l'anti-algoritmo bro Sei proprio l'anti-algoritmo Io non ne capisco niente di algoritmi Io sono un algoritmo Ma perché stai a tutti No vabbè Ma quando mi fai schifo farlo Oh no Che mi è passato davanti Mi hai fatto cagare sotto Aiuto Ma come vogliamo andare avanti Dai no madre Che vado si è buttato Ha cambiato zanza Zanza Mi ha messo una mina pure Aiuto Mi inseguono Mi inseguono I cattivi mi vogliono Ah i cattivi mi vogliono Mi hanno preso Dai dove sto Raga No però eh Dove cazzo è la mia La mia mitraglietta Che sta succedendo Aiuto Buonasera Teo Oh qualcuno è qua Dai che quattro raga Oh oh gli è sceso uno Gli è sceso uno Dagli una mano a guazzo Vai Ale Vai Ale go Amico Eh Domenico hai messo il pollicino Vedere me Uh quello Quello sarà one shot Sicuro No Stavano killare Ma perché No Non c'è più nulla Ah eh sì Guarda come lo vuole scammare Livio Aiuto C'erano le mie armi qui Chi se pre... Io vedo Livio scatti C'è uno sulla torre La mia arma guerra Se la sono rubata No per prex Sono da sole Dove streamare Lupo white Ti chiamo Mi chiamo lupo bianco Su facebook Ciao Piro ma perché Due a terra E tu mi hai fatto Tutto e due le sate Immagino comunque C'ca puttana Perché non mi ha dato una kill Zio non mi ha dato una kill Zio non mi ha dato una kill Ah questo l'ho preso io Non ci credo Che le ha fatte restare tutti Non ci credo Non mi ha dato una kill Madonna mia Zio non me l'ha data Ma anche il mio se l'essato Veramente Veramente Siamo finiti Guarda veramente Siamo finiti Con brutta gente Ormai Che stimo su facebook Perché su tu Ci non è capace Oddio Forse Non hai capito Che se fossi Sull'altra piattaforma Fare live Sulla banana In piscina No Insieme a Come un guys Raga Comunque mi avete fatto morire Ma perché sei un balanzo È sopra È sopra Sul tetro Mi sa Ma chi ha pushato Sono di qua Perché ho la partner Di qua Ma chi è la partner Di là Tu sei Oppure io ho la partner Di là Però non vengono Ma non hai La partner Di là No io ce l'avevo Allora Ma non è vero Ah sì Ce l'aveva Sì 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 Raga comunque c'è qualche problema Oh cecchino Non mi entro i colpi Zio No Eh No Non c'è qualche problema Raga La connessione No Vabbè No Vabbè Niente Pollo Pollo combina Guai Certo Carmine Stavo dicendo Certo Carmine Dopo te lo faccio vedere Finita sta partita Te lo mostro Davvero Ma io vedo bene Ma io vedo gente a scatti Livio stai andando a scatti Ma io vedo bene Ti devo raccontare una canzone eh Sei l'ultimo Vabbè tornato Piro Non so io Non so io che sto all'aggan Tenta quello in volo Affritti i colpi Madonna se ti spezzavi le gambe così Oh 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 No Per fammelo abbassare un pochettino Impazzito Cioè alla fine sei morto Sì Grande Complimenti Bilbo vlogging Mi ha fatto Bilbo Baggins Dai Mi metto un po' di cazzo di audio No Guardalo Guardalo Bilbo Swoggins Oh Il stocker Il stocker in azione Allora Oh Che sta facendo No vabbè Io Io non so che cosa Vabbè Forse hanno bevuto Red Bull un po' troppo This evening This evening I think that you need a new connection Guarda 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 mannaggia quel porco di giù No Ma che stai sparando tu A chi ho sparato? A uno fra che stava facendo guazzo Come a chi ho sparato? With i tocchi Non si è impazzito Bravo Livio Chi t'ha fatto? No Non lo so No Eh ma perché 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 Mi lasci Sembre Zola Oh Oh il mio joystick Non ha risposto ai comandi E' mo' Non so cazzo Abbastanza Ma quando sono esceso dentro il buco Chi è? Un shot C'è un buco lì Perché che ho busciato? Io sono un one shot Quello dietro le scale C'è guazzo che sta camperando nell'angolo Guazzo Morto Morto Usiamo le piastre Vabbè le rubo a live No E dai però Ma dove sono tutte le piastre? Ma è benissimo Aiuto No era da tre ore che lo cercavo Ti vedo Ah guarda dove sarà infilato Sono due Sono due guazzo Morto guazzo Arrivo Ale resistimi No ci sono due Sono due Sono due Fra sono due Arrivo Guarda non entro nei golpi Raga Stavo dicendo Stavo dicendo Dai guarda Questo pure era morto Effettuerare Come si vede la live Guarda ogni fight Che sto perdendo Effettuerare Abbiamo un problema tecnico Signore Un problema tecnico con le cuffie Lo so che non è colpa tua Ah comunque c'è C'è quello della netting In live Lupo Ho detto Che vuole il tuo Dice C'è il mio nonno No C'è il mio avuto Eh lo so avverse Che si vede la scatola Dietro lì L'inno è tutto C'è questo il problema No Uno su prison bro Due su prison C'è il mio nonno su prison Dai statemi Come da adesso Non c'è i soldi Tu perché sei morto Aspetta vedo solo i trovi Comunque Si muo ti detti il numero di Allora 333 No Non me lo di in live Sei scemo Dai avete i soldi Raga Eh se me li portano C'è gente su prison Attendo No ma il tiro Piro Ma te li porti i soldi Certo Zio ma che vuoi Che sono una lunga scatola Pesso si era Che mi chiede a voi Audio Mamma mia mamma mia Qualcuno gli mette un tappo in bocca Per favore Il numero di luoghi Ah per me è la 333 Allora ragazzi avete una possibilità sul 990 milioni di vincere sta partita Versi allora a questo ragazzo gli fai 80 euro Allora 50 a me 30 a te va bene Non mi state facendo capire niente C'è uno qua Con i passi Eccolo Guarda guarda Non posso restare niente Non c'ho i soldi Ecco sono morto Grazie Benvenuti Ciao È stato un piacere Terzo mondo Terzi al mondo Qua siamo arrivati Perfetto Cazzo ma perché Bottazzi Non riesco a fare giocare No raga io faccio l'ultimo Poi vado da Albi Albi Che è Albi Che è Albi Livio dove cazzo vai Albi Che è Albi Eh ha detto il Johnny Che è Johnny Non mi dire che vai su Airtstone Livio Eh Non mi dire che vai su Airtstone Infatti questa era quasi lì No dai dai Fai il serio Iniziamo a giocare un attimino più serio Abbiamo scherzato Abbiamo riso Il gioco è bello quando riso poco Va bene E poi vuole Proprio Di codi Che si vuole allenare per i tornei Deve essere solo sputtato in faccia E basta Allora Le ho mutate un attimino Allora Per i tornei Alex Praticamente Mi sto organizzando C'era un torneo stasera Non sono riuscito a partecipare Purtroppo Spero di partecipare Alla prossima Perché mi sa che i post Erano già pieni Ehm C'è un torneo Ma non Ve voglio di nulla C'è un torneo Mondiale Che hanno organizzato Però sto cercando di trovare La squadra per giocarci Si chiamano World Series E' un torneo in cui Parteciperanno tutti quelli Tutti nel mondo Tutti Quindi Aspetta Sto parlando un attimo In chat Però mi stanno stressando Dicevo Dammi un secondo Dicevo Quindi praticamente Sto cercando il team Per partecipare Ai World Series Che sono i mondiali Di Call of Duty Non lo so Se riesco a partecipare Perché Molti sono in vacanza Purtroppo Quindi Non c'è sta agenda E Ma vediamo Se no se trovo un altro torneo O faccio un altro torneo C'è il torneo Niente Paravo del fatto Che siete due bot Voi due Non siete in vacanza Non ci siete World Series Eh Piro Ha deciso di pronunciare Lo stesso giorno Ha pronunciato In Sicilia Cioè E' colpa mia E' colpa vostra Allora Mi hanno scritto sotto al posto Voglio vedere la POV Del tuo nemico Io ho scritto a 10.000 like La pubblico Però non ce l'ho Che intelligente La POV La POV Come fai da prendere la POV Del nemico Ma quello che ti ha Ma quelli che Ti ho mandato io I World Series Però No davvero Però Frano Al momento non c'ho il team Devo vedere se lo trovo Metti sulla piattaforma Gialle e blu Molti sono in vacanza Loro sono in vacanza Non ce stanno E' un macello Tecnico informatica Pronto No Comunque sono stati capaci di insultarmi Sotto questa POV Raga Comunque sono stati capaci di dire Uno E sono stati capaci di dire Zero intelligenza Zero vicinamento Zero mira Sono stati scontato Il mezzo Sotto a costa Il mezzo Taglie 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 Sono troppo superiore Vero? Sì Eh Io l'avrei già Sottare Eh lo so Però zio Uno che ti scrive Ma perché sto scattando Devo riavviare il gioco Dopo Dopo Ciao POXY Non ne ho letto Proxy Proxy o POXY Se batti In 1B Uno lupo bianco Ti do 10.000 sub Ok vabbè 10.000 sub Che Devi fare il mutuo 10.000 30.000 euro Dai ma Ma si chiama Vincenzo Il tizio Amico tuo Scherzano Si ma Si chiama Vincenzo L'amico tuo bro Vero Si chiama Vincenzo Mi ho detto il tuo numero Ah ok Mi ha scritto Eh lo so Mi ha detto il numero Ah ok ok No raga Mi sta venendo male A tutto In questo momento Prego per le waffle Eh tu hai voluto mangiare i waffle No vabbè frate Che ho senso Ma che cazzo Cando Ma era nell'angolino a destra Eh no no Non ce l'assalto Non ce l'assalto Tu prima sei morto Solo con l'RPG Mori Mori di nuovo Eh È salito sulle scale No Peccato È arrivato anche l'amico Col Mac Oh ma mi ha smettato un colpo Mi sembra molto strano Oh vabbè Chi è lupo bianco? Quello che sta giocando con noi Come chi è lupo bianco? Madonna di Dio Forse volevi dire il lupo Quello che è rotto Ah ma c'è ancora gente qua Non l'avete killati Ma c'è uno qua Te l'ho pingato Te l'ho pingato C'è uno Sta scappando È morto anche il guazzo Vabbè Uno due Palla al centro C'hai fatto 130 visualizzazioni Sul mio profilo Con la tua faccia Con le mani incrociate Sì Ma è vero 130 No 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 Aspetta 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 che Mario Mi ha scritto Ma prendi il reddito Di cittadinanza Mamma mia Se prendi il reddito Di cittadinanza Quest'ora stava a Dubai Io lo prendo Poi lavoro a nero E c'è un po' sospettare No Mi so Sto scherzando Sto scherzando E intanto sono morto Dici che sono stronzato Bravo E tu continua Di stronzate Oddio Non hai visto Quello che è successo Dove è andato Dove è andato Dove è andato Manco io l'ho mai sentito Si è confermato Io ho tirato l'elicottero In bocca Ma a chi Ha questo Guarda me Guarda me Io no Oh mio dio Aiuto aiuto Mi puscia Guardami 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 bro Mi serve i soldi Una La voglio prendere Il cazzotto Però Sta arrivando Tutto un team Qua con le armi Ha quittato Quello che ho tirato Sotto con l'elicottero Non ci credo Dai Mi ha messo il tallone Sotto il tallone Di Achille Perché non te la senti Perché sei giù di morale Foxy Chi è Foxy Ma in teoria Avevamo i soldi Per il lancio In teoria In pratica È da vedere Ma c'è qua il lancio Zio ma che cazzo fai Si una volta Lo prendiamo È finito Guarda uno Che deve fare Guarda uno Che deve fare Della vita Aiuto Il reddito Intendo Ah ok Ok No purtroppo C'ho la partita Iva Ha Ha Può eccidere il tiktoker Mi dispiace Oh c'è uno sotto di te Guarda là Mi è scappato Adesso lo ribecco No one shot Oh addirittura Ha avuto questo coraggio Di ingaggiarmi poi No vabbè Sai che arriva un altro Un altro team C'è un altro qui C'è un altro qui Piro Sopra mi sai Sto vicino a me Oh aiuto Guarda che schifo Sdraiato sulle scalette No frate ma non hai capito Ho toccato il monitor Con il mouse Cosa mi è successo Nella mia vita Monitor con il mouse Che hai fatto Hai fatto volare Eh sì Un pochino Non vedi che si è alzata La visuale Ma che ne so io Mamma mia per il tarlo A parte che questo C'ho un timing Che manco Ciccio Ciccio gamer Ciccio gamer C'è te l'ho killato io Lius Grazie Rupus Prego Oh da me No Ma cosa mi ha fatto Sì sì Fermi Ce l'hai cambiato Ma però sono la gialla Guarda il mio ping Bers Ma com'è possibile Allora Ma non mi stavo impressionando Cazzo Se vuoi mio cugino Te lo fa prendere Albi Tra poco arriva Sì così mi arrestano diretto Io voglio giocare al cuore Fai 180 di ping Come cazzo faccio A giocare Sera Ma perché C'hai i 150 di ping Non lo so Dopo prima di avviare il gioco Di riavviare il modo E non mi sa altro che gioco Eh proviamo a prima di avviare il gioco Eh se no Boh Non lo so No ragazzi io mangiarti i waffles Sto morendo Non ce la faccio più Ti te la fatti mancià No vabbè 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 Avendo lui il fight Da one shot Non so a cosa ti riferisci Eh ma anche a me Succede qualcosa di strano Tipo questo mi è uscito Ma l'ho visto dopo Ma non entro i colpi raga Buono GG Non lo so come ha fatto A volte rimango perplesso da sto gioco Lo giuro Poverino Vabbè raga No Oddio 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 Aiuto Non posso fare niente Comunque si bers Sembra lo stesso senso Uè bers Dai però Non fai nevevi le armi Dei tipi che ho ucciso io Guarda che c'era un altro qui zio Oh no no Non c'è l'amico Non c'è credo No Non era lui quello che ha sparato Non era lui Non era lui Ce n'era un altro Sono due dove sono morto io Sono due Dio Ciao lo so che mi sta dando problemi la net Lo so lo so Ma me ne accorgo Me ne accorgo eh Me ne accorgo perché vado a scarti Frame laggo E in più i colpi non entrano Ma non entrano proprio Oddio Ho visto tutti i fatti che ho perso Lì Ho tornato Signori Ho lavato la spacca Ho fast web come gestore Che arriva Va bene va bene va bene va bene Se ne rinati se ne rinati Se ne rinati Vai E non ti devi preoccupare Tu mi stai sentire E fai quello che dico io Fidati che migliori Inizia a sentire E non sentire nessuno Guarda come crepo Bello guazzo qua sopra Con l'arma guerra 34 gol Morto Piro Questo l'ho visto fermo in aria Rego l'ho visto fermo in aria Per un secondo Poverino E poverino in realtà Guardalo Non c'è un punto dove andare E' impossibile Vieni vicino a me lupo No caccio Ma si era liberata la musica sotto Non me ne ero accorto Aia Mi campero sotto Mi campero sotto Fra E comunque mi hanno sparato Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Siamo tutti nella zona sicura Speriamo che si fanno fuori a vicenda Morto guazzo No No ma non devi stare sopra Boccione Guarda dove sto io Tranquillo tranquillo Sono safe C'è un punto in più Posso stare al buio No 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 Eh Avevo finito i colpi Quanti sono? Tre Sono tre sotto No ma è impossibile È impossibile vincere Non credo che sia possibile Vincere Quante sfere Chiapperò Semi Livio Livio Sbott Sempre più scherzante Sembra cattivante Livio Pokémon Gli dai audio Gli dai audio Uno più uno Volevo prendere una win Allora Livio accattivante Livio polpettante Livio Caccemon Ti sei messo Nella cacca bro Che cosa hai fatto tu Ti facevi i fatti tuoi E dai E' normale Let's go Let's go Let's go Mi chiamo Livio Su un Pokémon E faccio la win Una cattiva Mi chiamo Livio Da uno che deve fare Poi la fine partita Continua a parlare Noi da audio Passa fa Maurizio Maurizio Che non diventi un vizio GG Allora ragazzi Manca una Sub Chi sarà L'ottantesimo Ma sta zitta Piro No mi sa che è la seconda vittoria Chi sarà L'ottantesimo Dai con un'altra Dai Dai Ma cosa Non ce la fai più Ma solo le 22 e 47 Ma you are You are crazy Man You are not You are not Normal bro Dai Dai Let's go You are not You are not Win Inaspettato Incredibile Edward Thank you Thank you bro Thank you Thank you For DGG And Rizio Winni Inaspettato Comunque Non me l'aspettavo Manco io No Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Ma che significa Devi sempre aspettare Che io Provo le clacche Eh allora Perché abbiamo fatto 4 partite Con 5 Quando ne abbiamo fatte E abbiamo fatto 2 vittorie Su 4 o 5 partite Eh perché io Non stavo bene Eh ma è normale Mica vuoi sempre Il piro di ieri sera Tu sei scazzo Lascia stare Va bene Va bene Ma sono io che claccio Dicevo Ehm No secondo me A volte si bugga Fra la classifica Si bugga A volte Non li vede tutti Dov'è Rizio Perché praticamente Se vede Tenente 856 Io sono 855 vittorie Eccomi Che succede Ah è ricrasciato Ho messo WPN Raga Ho messo A Milano Ah bella Bella fra Allora quindi A Milano Troveremo Le milanesi Eh dipende L'ultima partita Che abbiamo fatto A Milano Mi hanno detto No Amio Mi ha chiliati Ti ricordo Che la tipo Che ha creato Il corsivo Era napoletana No non è napoletana Ma che cazzo Dici zio Ma tu Tutto blocco Lo sai dove vivi In Olanda E allora Fai l'olandese Fai l'olandese Non parlare Se sei un italiano In Olanda Fai l'olandese volante No vabbè Ha chiamato I pirati dei carai ne godolette voglio voglio il purè voglio il purè immortale attenzione immortale ti saluta di saluto immortale fra di saluto immortale grazie mille per le 40 stelle dai facciamo altre 60 mio fri caffettino tattico bro mi vado a prendere il caffè al bar questo è marketing questo è marketing si le std di nuovo non pen non so se dirti meta ma sicuramente ancora buono ancora buono ancora abbastanza buono challenge 200 stelle si fa 50 che il totale guarda come siamo questa sera se facciamo 10 in 4 e non lo so ma glielo dico dobbiamo fare 50 kill fra tutti e quattro in totale che poi compiro bot stasera penso che sia un difficile però ci proviamo sta usando la scusa che lagga fra guarda che c'è la laggi bro laggi laggi o lagga ho rivisto la clip dei pirati di verdasker madonna quando ci mettiamo sopra al treno quando saltiamo il treno ragazzi da oggi luco bianco si farà un nuovo canale le reaction di luco bianco si chiameranno grazie buonasera simone buonasera caro buonasera buonasera come va come va che no 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 nani parlare non mi parlare basa normale mila che la live bruno io qua vedo che tutto in verde bro a me mi dà al verde sulla live ma poi be lagga potrebbe essere un problema di fb e di server Questo cheat a me sa Questo cheat a farà livello 12 No bro Bro che schifo Bro che schifo C'è un cheater su control bro Ragazzi ragazzi C'è un cheater su control C'è un cheater su control No che schifo Che schifo fra Che schifo Che schifo Dai bro E' un livello 12 che con la pistola Sparava in cielo e mi prendeva i colpi alla testa Bro che schifo Madonna mia Activision Porca miseria Io voglio parlare con un responsabile di Activision Sai quante parolacce gli dico Ma mi faccio bannare porca miseria Guarda 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 Porco Mannaggia la miseria Queste cose non le sopporto No Ale no Ale no Guarda qua Sono morto Sono morto perché io Ci schifo Guarda Dai che cosa fa Activision Non ci credo No raga l'ho visto a scatti E' vero che non mi doveva ammazzare Guarda questo che non va a terra Activision Resta mi tiro Aspetta mi ritiro un bombardamento a dose Dai che stai laggando pure Resta mi Io sono più utile di te Vai copro io Nooo One shot Calma Calma Anche le piastre Non mi ha lasciato niente Guarda quell'altro Guarda quell'altro Che è successo Vabbè Chi sto con la puzzona perché Ma non c'è già le armi Oddio potrò scatti Eh dai ma non si può giocare così però Sono morto da un marines Come sono morto da un marines Oh porca miseria è caduto la puzzona Un attimo con la puzzona perché Mi devo un attimo Mi devo un attimo calmare Perché ho beccato con il cheater Che è caduto qua Che raga ma terriva veramente e dice Come glielo faccio quel pop al questo Ma vanno a terrivela mai Fatto 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 C'è uno sopra mi sa c'è uno sopra Nooo Le prendi le mie Oh è salita è entrato è entrato È buttato uno con il paracadute Oddio è sceso Ho paura È sceso salito Perché mi ha allontato in testa questa laca oggi Regà regà ci sono i cheateri sta partita Ve lo sto dicendo Eh me ne sono accorto Oddio Sembrava tipo Sembrava tipo olivio quando ci mirava Quindi mai Eh però peccato che ti prende Comunque tutto che smita ti prende Dove vai dove vai dove vai Sono safe Sono safe Sono safe Sono safe Io non ci sono Fran C'è nessuno da te C'è nessuno Qualcuno che spara col dmr sopra di me Cosa Eh il cheater Il cheater Il cheater C'è il cheater su Ah ma buono 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 Adè facciamo la cosa Se muoio dal cheater Spacco la sedia Spacco la sedia Spacco la sedia È il cheater col fall bro Madonna Mamma mia raga Ma come si fa Segnalate questo Per piacere Guardalo No Stavo pure craccando Grazie del follow Mike bro Sono contrariato Molto contrariato Ma come si fa Ma come fa E non bannarlo subito Ma l'anticit Dov'è Ho fatto pure class Guarda Grande Davide No io ho fatto una roba più shield Però Ma dov'è l'anticit Bro Ho filp su fb Bro Ti ringrazio bro Di Grazie grazie Benvenuto nella family Benvenuto bro Però Statera sulla gang Quello guadagna sulla mia immagine Fai guardare Gsk Olivia Quello guadagna sulla mia immagine Mentre le mie reaccioni Guadagna su di me Ma no Dove sei tutto Dove lo vengono di clip Non la crea No Ma perché Ho cercato di pushare il cheater Ma fate Guarda che sta succedendo Guarda che sta succedendo Con il cheater lì Due a Dekon Due a Dekon raga Eh bravo Ti sei buttato tu Gsk Dai ma che cazzo è che me la stiglia Cane Forca Mi prego facciamo fuori il team del cheater Facciamo fuori il team del cheater Lo devo fare Lo devo fare Manteggia la miseria Minchia quanto sto succedendo raga Oh ci alleiamo per buttare fuori il cheater Facciamo un attimo i seri Dove sta sto cheater Annova Sono morto due volte Annova da lui Ma potremmo buttare fuori i cheater Anserio? Avete capita Come il fiume Emo resta l'amico Guarda C'è gente lì via Non è lui Che forse sta sopra di me raga E' uno shot E' uno shot E' uno shot Pure bombardamenti questi mi lanciano Signori Lei mi lusinga Oh lì c'è il cheater raga Eh facciamolo fuori Oh si è il cheater Certo che gli sparo Se lo facciamo gli sparo addosso A me non mi prendo tutti gli slide cancer raga eh Atterra uno sul tetto eh Quel moment è bugato però questa sera Troppo lag Atterra uno sul tetto bro No non mi abbandonare Dai ma guarda come non mi introno i colpi che palle C'è uno sul boccione Eh si è montato ma non la posso fissare Sul boccione fra L'ho buttato il bomb in mezz'ora fa zio Eh ancora sopra Ma quando mai che c'è Dai l'ho appena molo Gli ho sparato adesso Vabbè dai Vieni con me Vieni con me Vieni con me Oh dalivius Oh nessuno aveva colpi di mitraglietta Com'è possibile No l'ho preso l'ho preso Eh lui è killer No l'ho craccato L'ho craccato raga Ho craccato il cire Atterra Killato non torna più Non torna più bro Killato 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 Gli devo sparare sul corpo Resta me Resta me Resta me Resta me Rupo resta me Non miro che se non ho connessione Rupo se non ho perso Se non ho perso connessione Penso che ho fatto il team Gli ho fatto eh Vieni 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 Dai Rupo Devo sparare sul cadavere Devo sparare Aspetta Devo sparare sul cadavere Devo sparare sul cadavere Cheater Oh me Non viro No no è vero Sto laggando io raga Dopo riavvio il modem Non lo so vediamo Però peccato Dio Non prendetevi le mie armi Non prendetevi le mie armi Non c'è più niente Non c'è più niente No no ho trovato tutto Ho trovato tutto Mi servono piastre Passatemi i soldi Ale Passatemi i soldi Oh sopra Macello Toh ho messo anche mia terra Tiieni le piastre Tiieni le piastre Ale Eh ce l'abbiamo sopra Fra Ah poi 11 persone dove sono Oddio che caro No ma cos'è sta merda Qualcuno mi ridia Il mio account qua Fammi vedere Cosa è in mano Ale Fammi vedere Ma non ho te mate u Eh meno male abbiamo killato il cheater Rega Minchia comunque raga La react di lupo sotto al mio video Quanto bella è Mamma mia C'è tanta roba Oh lupo stiamo già a 400 visualizzazioni Messo manco da 10 minuti Buono Eh ma deve salire a 20.000 Eh si si esce Doi ma Eeeh Questo era un po' Da 10 minuti Oh però 400 damo Ma 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 beh Questa era la più forte dei pro player in Italia Guarda Livio Guarda Livio che stava perdendo il fight A persuasione a piastra Lo fai te lo fai Dietro Livio dietro Madonna le due mucche Dietro Livio dietro 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 Livio dietro Dietro Livio dietro Peccato Peccato Sì ma secondo me qualcun altro Citava Sì 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 ma ghillato uno in modo molto strano Però vabbè Ragazzi mi andate tutti a lasciare un commentino Di più alti Di più bianco Di più grazie Vabbè Bella lobby di cheater Ma bella Ma bella Allora Dicevo Dicevo Esatto Parla della clip di ieri Quando lui ha fatto La serpentina zig zag Qua e là E Si è fatto Tutte quelle persone lì E poi ha vinto la partita Andate un attimo in bagno Siete voi losto no? No Come no? Dai tiro C'è di un po' Non ho capito C'è di merda Fammi giocare No mi dissocio Lei Lei è? Ma lei Da Un bel Sempre 50 Allora Stavo dicendo A Raffaele Allora Non è proprio meta meta Però è molto forte È tornato di nuovo Molto buono In chat C'è il settaggio Punto esclamativo STG44 E L'unica cosa Differente È il mirino Che là Sta scritto in chat 2x5 Se non vado errato Io adesso uso Il 3x6 Il 3 e il 6x In realtà Sarebbe L'STV Qua Mi pare che Punto esclamativo STG44 Vado un attimo In bagno Vabbè Li muto un attimo Perché se no Ho capito già Che fanno il casino Mentre io non ci sono Iniziano a fare cose Arrivo subito Dai Sartate la partita 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 Eccomi Sì sì ma già da un po' Paolo eh Ho cambiato la sedia Ho preso Una taglia più piccola Ovviamente Perché quella là Era troppo Grande E Però sempre Diablo Perché vado Cioè Vado Diablo Certo Vado Bazzo Perché Una bella sedia Quale arma Bela Giovanni Buonasera Quale arma Sto usando STG Arma guerra Io È successo Sono tornato Sono tornato Mio dio raga Perché quella Che lei Mosa Devo stare Lì Ciao Loro Io No No Eh ma Adesso Non diventa Troppo Sì Vado Vado Boh Non lo so Se voglio Che Vado Sì 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 Problemi di Connessione Sì 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 Non fate evitare Quello di Elon Musk Sì 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 No Ci ha busciato gente Regà Ci ha busciato gente Con le armi Nella casa piccola Lì Chi mi ha terrato Regà Ci ha busciato gente Con le armi Sembra Paolo Sembra Oddio Che sta succedendo Io ho provato Una bid Della Cooper Particolare Da un amico Che è in parte Molto buona Dopo ti faccio vedere C'ho anche io Una Una Cooper Vede un'arma Il suo set Era l'STG Giovanni L'STG 44 Il fucile D'assalto Sto guardando Sei tu Lory Adio Albi Pronto Albi Sto guardando Sto guardando Sto guardando Bravo Bravo Vieni su Facebook Quanti piro 19 Allora me ne vado E hanno restato Altro che due a terra Calmo Livio Ti sale la pressione Fammi capire una cosa Lori SR Sei tu Albi Come sei Greta Come sei Greta Greta Ciao Greta Ciao Greta Sei bellissima No Ti do bene Oh Che è successo A terra To No c'è gente Oh my god Bro This is unbelievable E' l'otto E' l'otto E' l'otto Guys Bro E' l'otto Oh my god Ci pushano da sotto Ci pushano da sotto Compri tu Guazzo Ho fatto un qui Là fuori Che sta già morto Da un po' Se volete pushare Non si può più pushar Sì Hanno restato tutti E siamo nella kek Guazzo dietro Livio Stare calmo Arrivano Arrivano L'ultimo Non è rimasto L'ultimo Bro Guarda come si Butta Livio Gli ho detto Che c'era gente Mi ha Detta Oh This is unbelievable The franchise The franchise Il francese Bro Il francese Mi ha tirato giù Signora Signor Signor Bamba Signor Bamba Lei Lei come sta E' stango Stasera Che c'è Qua Oh Coltellino Arriva un altro Arriva un altro Let's go Mangato un bel Un bel calamaro fritto Mentre ero in bagno E' lì che era mai Bello Ma via Ciao 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 Tutto bene Sei in vacanza Sei in vacanza E io non vado in vacanza Mi fanno andare a giocare a Ayrston Mi fanno andare a giocare a Ayrston C'è per dei waffle bro Ma davvero Mi ha riscritto Vincenzo Che gli devo dire Aspetta Il servizio della latenza E' il modo che voglio rispondere Albi mi dici come ti chiami nella mia live Che c'era Grazie a 92 Grazie a 92 Non c'ho bisogno La mano vostra Ah ma non mi seguiva neanche Aspetta di rubare i kill Ah la finale di venerdì bro Abbiamo vinto Abbiamo vinto noi Abbiamo vinto noi 6 a 1 Eravamo 3 a 0 Poi loro hanno fatto 1 a 0 Quindi hanno fatto 3 a 1 E poi l'abbiamo fatta Abbiamo vinto tutto noi poi Dopo il 3 a 1 Poi abbiamo fatto 6 a 1 Vuoi mettere i miei contenuti con i tuoi Ma vuoi mettere i miei contenuti contro i vostri Ma che cazzo Ragazzi ma la risata di lupo la doveva Deve vedere Allora Quando te Sempre ieri sera C'è uno in chat di lupo che scrisse Sembrava tipo il col di maratona al novantesimo Lupo Ti faceva la risata Wow quella cosa Perché non l'hai clippata Il fatto del Che Livius sembrava avesse fatto Dico maratona Ciao serpentino si è salvato Guarda Se non ti metti Non hai fatto niente Se non ci fossi stato io Quello era morto Eh zio ma mi sparavano due persone Amico mio Eh vabbè Da più avanti c'è un sacco a tiro Uno te l'ho craccato Eh la mia live è testimone Sì ma che hai craccato No l'ho visto io Si è salvato Per un miracolo Di più L'altro è sotto L'altro è sotto Arriva da sotto Vabbè Chi è stato Fuoco 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 In the water bro Dove sta Varenzino Dove sta Varenzino Sì vabbè Sono il 18 Vabbè uno l'avevo craccato io Serpentino Salvate con serpentino Non ti salva nessuno Non ci credo Oh mio dio Gente sotto il boccione mi sa Sì c'è una formica Non mi sa che l'hanno killato Sopra prison Oh mi sa No ma l'hanno fatti da prison Mi sa Eh sì Marco Mette solo le barriere lì A fare i ve i ve i ve i ve i ve Da questo No c'è gente su prison Una a terra bro Andano a via Andano a via Andano a via bro mi serve subito Eh va bene ci stavano Dai bro mi serve subito Oh mio dio Eh minchia Da sta 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 E dimolo a quei fari bene C'hai così veloce Pena Con le Con le Dai Da GG Ho preso Rega ce n'erano tipo tre Ne ho messo una a terra Due volte ma Me l'hanno arrestato In teoria dovrebbe venire qua credo Oh mio dio Siamo tutti nella zona Muchas gracias Tio Come sta Sermanito Allo Zio Tiro lo stanno aspettando in due Nella partita GG Oh che cosa è successo Oh mio dio Oddio quanti ne sono scesi Dai raga ma sparati Abbiamo sparato abbiamo sparato In boscata In boscata Non ce credo Guardala che è successo Entri là sopra Oddio Ma dove Oh ti ammazzo Peccato Zio ma un picco così Non si deve fare mai Eh vabbè Mi hanno fatto esplodere Nelle fredde Eh peccato Peccato No mamma Io non me l'aspettavo Sono un suo schiavo Mi dissocio da queste cose Ho la scritta sul tuo canale Eh l'ho visto Cos'è che è E' bisogno E' bisogno E' bisogno E' bisogno E' bisogno E' bisogno E' come Pezzo di Però no La banda Dei bot Guarda la banda Del buco Ma come fa a essere Staggia la miseria Incredibili Andrei dentro Il Il coso Prima tu hai visto Quelli là di prison Che io vi ho chiamato Tre ore fa Si sono messi Tutti e tre Nella Nella carrucola Io ero impegnata Vuoi fare un altro team Eh E ci hanno Ci hanno fatta Tutti quanti Si sono messi In tre nel buco Pronto Pronto Io ero impegnata Vuoi fare un altro team Eh Perché 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 non sa giocare Di team Zio Se ne va per i cazzi Suoi Piro Ma guardate Guardate che pezzo Ti favo Un tiktoker pure bot C'è non è che dici Wow Appunto Cosa mi ricorda Il tiktok di Velox Che si killa uno Che si chiamava tiktok E fa Ecco fai questo Come tiktok Vai No Mi so Pirobot Pirobot Uno due Pirobot Uno due Pronto Vabbè andiamo Buonasera Sembra di mettersi Nel buco Ma dai zio Come faccio a rispondere A queste cose Cioè Bella lupo Bisogna sempre Mettersi nel buco Onesto Onesto Io dico Sono pure io Dico onesto Non dico altro Lupo Lupo blanco Lupo blanco Bacchino baby Michelangelo Mettimi Piro Seguardo I zon baci belli Tu baci lupo Mi chilo un francese Sopra il sugo Mi chilo un francese Sopra il sugo Mi sa che ci sono Un po' di problemi Perché C'è un nemico Da te Buonasera Gabriele Benvenuto Buonasera Sono a fai dare zio Contro 80 persone Perché io sono immortale Sono immortale Guarda lì Guarda Contro tutti Contro tutti Vado Contro tutti Non abbiamo paura Contro tutti Non abbiamo paura Hai fatto il lancio? C'hai i soldi Ripeto Qui non abbiamo paura Com'è i soldi Livio Sta zitto Quante persone Livio Oh Oh Francesco Guarda Guarda Francesco Povra Baguette Baguette No Un cerchino Da Ma Bello Bada Guarda Che Le Ma c'è Cecchino Stronghold Ha detto Ma c'è Un cecchino Stronghold No Aiuto Te l'ho detto Prama Te l'ho pure Chiamato Pro No 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 Non mi ha sparato Lui Lo corco io Ma porca miseria Oh my god Dov'era questo Non c'è Lupo Tu eri lì dietro No Era one shot Era one shot Ho sparato Era one shot Ho fatto ora il drop Ecco grazie al fallo Benvenuto Certo c'è anche forte un skip Voglio fare una forte un skip bro No Come no Possiamo farla forte un skip Per me non ci sono problemi Io faccio l'ultima raga Va bene va bene Dai fatti una forte un Una forte un Sdegade Albi poi andiamo su hs Mamma mia Io sto facendo una parità con thamstein Adesso Adesso muoio e vengo a guardarti Dai Zio Vinci una bella partita Dai dai Vinci Allora Un altro cittone Questo già l'ho visto L'ultimo che ti ha killato Con la skin damasco Sì Dici Non ci ho fatto caso io Ormai è pieno Fra veramente Ormai è pieno Poi oggi che cos'è Domenica Quindi figurati A domenica proprio Si riuniscono In comitiva Che succede qua Perché hai stato Dall'edica Pronto Si vede che hai proprio Un gameplay da pc Cioè Ti muovi in maniera diversa Cioè io quando guardo l'idio È E noi No Cioè la fluidità dei movimenti È diversa Però in realtà Tu sei troppo inutile Tu fai Tu fai Tu fai Giù In un attimo Sì ma zio Ok ma tu Ok tu lo vedi Dalla sua prospettiva Io lo voglio dire Dalla mia prospettiva Bro Un tizio pazzo Che fa le Le pirouette Ma sta fermo Un tizio pazzo Cioè capito Sai quanti Le uccido così Di quelli dei tiktoker Che cercano di farmi le robe così Vabbè comunque io volevo dire una cosa sola Tropicana Tricana di kd ed è morto in gunfire Benvenuti al samsara Dove sei stato al samsara zio Io a Riccione già ci sono stato al samsara Con la direzione Anch'io Io due anni fa Ah tu sei stato due settimane fa Hai visto che c'erano il Coso lì C'era Rubino con gli altri Ogni tanto streamavano pure dalla postazione No c'era C'era Mazzocchi Quando sono altro io Non c'era Rubino Impossibile Rubino starla da tipo un mesetto Ogni Ogni pomeriggio Fa le dirette là dentro Dipende a che ora proprio sono andato Lui attacca alle 5 tipo Livio Livio è il tipo Hai ragione Luca Livio in realtà È il tipo che mi ha scritto Su Facebook Grande Mattia La live non si vede bene Ma come ragazzi Aspetta Fermatevi un attimo E Ma Sono sicuro raga Che non è un problema mio Cioè Non è un problema mio Perché guarda Sto guardando ora E Purtroppo Vi posso dire Che io C'ho tutto sul verde Stanno avendo problemi La piattaforma Con i server Probabilmente Raga Bella peffo Purtroppo io Purtroppo io Voglio vedere Un uccello Piro Non ci credo Un uccello Aspetta Te lo lasci Te lo lasci Dove Eh purtroppo Non si assaggia Neanche stasera Il salame Eh esatto Devi assaggiare Devi Devi assaggiare Raga ma Quanti soldi ho trovato Non lo so Basta che fai Quello che devi fare Che c'è Ah era tua Eh mi dispiace Ma quando mai Ma perché abbiamo Trello down Billone Billone Eh lo so regà Ma probabilmente O sta avendo problemi FB O stanno avendo problemi Magari le connessioni Internet in generale Tipo il vostro gestore Internet A volte capita Ma hanno detto Che ci sono stati Un po' di problemi Con la team Ultimamente Che danno problemi Ai server Dei social Billone Eh Paguazzo Se vuoi tipo Aiutarmi Ravazzo Ale Ale No 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 Come ho fatto a morire Billone Mi ha fatto uno Con l'H4 Oblixen Da terra Vabbè Quello lì Quello lì Curioso 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 Sono molto curioso Anch'io Dai Decibel Mi hanno sparato Anche da dietro Che palle Sì Sì Migliora Anche Un po' Migliora Bello Beh complimenti Dicevo Sicuramente Migliora Se hai la fibra Perché è un gioco Comunque su internet Quindi se hai la connessione Ti va bene Non hai problemi Però Devi anche calcolare Da dove giochi E se c'hai il cavo Attaccato Perché se giochi in wifi Non va Oh Francesca Grazie al follow Benvenuta Dicevo Se giochi in wifi Comunque non è stabile Devi sempre mettere Il cavo internet Che si chiama Eternet Mio nonno Il mio nonno Invitiamo Mio nonno Bella bella Livius Buonanotte 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 Domani lavori Livio Livio No non lavora Fra Ha fatto male Le vacanze Con i Con i colleghi No Sarà andato Sarà andato Sull'altro gioco Lì Iri d'Earthstone Come si chiama No mi dissocio Luca Mi dissocio Io ho team hub Fibra ottica Ma non ho Nient'altro Indietro Ah è che In altri paesi C'è già la Due giga e mezzo Anzi Lupo Sta tu Va bene Ho sto io Mo ti invito Dicevo Praticamente Qua abbiamo Comunque la Mille giga L'unica Cusa Che Non c'è Ovunque Solo in alcuni punti Non l'hanno messa Ancora ovunque Tra l'altro Dovete avere il cavo Ethernet Sennò non va bene Non me lo fa invitare Mandami un sussurro Che non ti fa invitare Anzi T'ho invitato T'ho invitato Vai Paraparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapo Eh lo so Dopo li guardo Ma Non ci posso fare niente Anche se guardo Di screenshot Non ci posso fare nulla Buonasera Michael Bella Paolo Parapapapapa Parapapaparam Parapapaparam Grazie della condivisione La pubblicità si vede benissimo Ma mi fa un sacco piacere Guarda che bello Che cosa ti è uscito Viene o non viene What's up Arrivo arrivo Ah ok Sguazzi o non sguazzi Puoi sguazzare C'è anche un mio amico raga Va bene Dai che sguazziamo Allora guazzo Vabbè è partita una canzone Un po' un po' tecno sotto No Va bene Ok Vai 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 Manca il quarto piccolino Dicevo Sì No Iron Iron Bell'iron Bell'iron E non si avvia Aspetta che si è buggato Vai Alterniamo un po' Facciamo un po' di Fortus Che non l'abbiamo fatto Cavolan Massima potenza è tutto Ma mi sembra che sia il nato aperto Se più fluido O modernato o meno Eh sì Deve avere il nato aperto Io ce l'ho aperto Cosa? Ancora devi commentare il tiktok No Deboi lo commento Non si fa così però Maronna mia Non si fa così perché Ma tu perché l'hai messo a quest'ora Si mette di pomeriggio Fra ora di pranzo Non me l'hai detto mettilo Ma non ora Lo devi mettere Oggi 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 Tutto ti devo insegnare Io senza capo vado a 4 mega Madonna Fra No No eh Come fai Cioè a 12 e 16 Sono pochi eh Sono pochi Sono pochi perché Ormai Internet consuma I giochi pure Tutto consuma tanto Sono pochi 12 e 16 Cioè non è che non giochi Giochi però Anche se devi scaricare gli aggiornamenti È un macello Ci metti una vita Cioè Ma perché mi stiamo facendo fortune? Eh dai Per cambiare un pochettino Dai Abbiamo fatto rabbit Fino a mo Facciamo qualche fortune Mi voglio infortunare Va bene Ti sei un po' ripreso Dalle vacanze Sì sì Vai 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 Anche quest'anno Io faccio le vacanze L'anno prossimo Bro Eh dai Hai non ho capito Ma tu dove vai in vacanza Devo buildarmi Eh quella sì Io vado in Sicilia Luca Ah ok Parto domenica Palermo Ah Palermo Mi tolge Tu lo sai che mio nonno Era siciliano Allora Novità non proprio Però A breve dovrebbe esserci Vi devo informare Ci dovrebbe stare La beta del nuovo Call of Duty Da provare Quindi Mi devo informare Che appena esce E posso provarla Ve la porto in live Così lo proviamo insieme Pronto Non mi lagga per niente Per gli aggiornamenti Accendo la sera per la mattina Eh C'hai capito Quando esce un aggiornamento di code Che dura giga Sono tipo di Se va bene Sono 6-7 giga Se va male Sono 40 giga Ci metti una vita Andiamo a town Allora Andiamo a town No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No Oddio Non sono sicuro Minchia mi sta invitando David di Cicchella Ah chi è? Come chi è? Ma è proprietario del samsara? Cazzo fra Minchia scrivi Dovevo fare le partite Ma perché c'è il profilo di shadowbun Matti? Io ho mai avuto No No Si è buttata Guarda 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 Si è buttata a confermare Dove abito io in un paese piccolo non arriva la fibra? No ma infatti solo nelle città al momento c'è E neanche in tutte le strade Comunque qua a Napoli non è che sta ovunque La fibra manca comunque Alcune parti Assurdo Ho fatto un drop di fronte Della gente qua brodi Oddio one shot Guarda sto 1-2 parlo al centro Uuuuuh niente Che stacca di culo questo Non c'entrava un cazzo Non c'erano di niente Non c'erano di niente Precato C'erano le armi C'erano le armi Guarda qua C'è sta un'arma qua terra guarda Peccato Mi scende il drop Mi scende il drop Oh sono un cretino Sarò un cretino Bapapapapa C'erano che non rincula 1-3 parla al centro Fammi piassermi, madonna C'è uno sul lancio, bro No Oh, aiuto Dove, raga? E che ne so, dalla torre, tipo Dove vi? The Wab Guarda lì chi ne ha killato, guarda, guarda Calma Calma Cioè mi ha killato uno dal faro, zio Assurdo Ui, Fabio Vasile Oh, terra, terra C'è un altro, c'è un altro Ecco, questo mi ha riconosciuto Buonasera, Fabio Allora, Claudio Sto usando, praticamente, l'STG E l'arma guerra Che so L'arma guerra è fortissima da vicino STG pure buona, pure buona È tornata buona Non meta, ma è buona Mi scrivo un altro, ne trovo un altro Bene Io so 2-4, tipo Palla al centro Sì, vabbè, ma Arrivò No Mi ha aperto il paracaduto in faccia Mi ha aperto, bello, Adriano Ok, niente Arriva un momento in cui io sono molto sfortunato 0-0 Questo è il momento in cui sono molto, molto, molto sfortunato, zio Avevo due piastre, queste C'era una piastra in più e mi ha fatto Allora Calma Io sono tranquillo, eh Cerco di essere tranquillo Capita che bisogna tirare bestemme, sta parte Guarda, guarda, guarda Chi è questo? Guarda, chi è questo? Chi è questo? Chi è questo? L'animale Ma il francese? Ma, ma, ma Prando? Prando? Oh mio Dio Capita anche questo Calma Riusciremo a tirare i piedi giù? Ma, ma, ma Ma, ma Ma, ma Mi Dopo abbiamo i soldi per Butto qua però C'è gente sopra la torre E c'è arrivato uno Qua faccio Qua faccio Qua faccio Le armi Eh ho 13 colpi io però Oh my god bro Un secondo che Sei pushato 300 persone guarda la Sì sono col lupo bomberino Eppure la La mappa è 40 persone Perché loro stanno prendendo Il giro giusto E noi prendiamo il giro bot Ci pushano da sotto Da tiktoker Sono due Dg No è dietro di me Arrivano da sopra Fra in tanti Attenzione Arriva un altro Altri due nel gas Nemico in volo Nemico in volo One shot Uè Peppe Uè Peppe Buonasera Peppe Ben bene No No dietro dietro Che è successo Chi è da dietro Dai dov'era Solo che l'ho tirato Il resto non Vabbè Beh la voglio È lì Peccato che i server Sono sempre europei I server Sono sempre Quelli europei Altrimenti fingheresti 180 Quanti ne erano raga Tebare Fingheresti 180 Non 30 Come se andasse a giocare In America 1v1v1 Calma 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 Ma che ne so Fra Ma tu va bene Dai Guarda Guarda Perché Perché Doveva fare la giocata Del movement A volte esagero Non capisci Quando la devi fare E quando no Dopo glielo dico A volte esageri Non capisci Quando la devi fare No Quella Quella giocata lì Era esagerata Fra Giustavi per morire Lo sai perché no Perché Dovevo riparo avanti Lui perde le masche Eh Vabbò Ma non signore Non signore Quante volte ci sei morto Così Eh Vabbè Su queste giocate qua Mai Va bene Fammi fare content Io non lo so Iron Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Sì Sì Non è che Faccio C'è robato con me Non ti ho capito Fra No Niente Niente Stavo scherzando Detto Iron Difendili Allora Alla fine Non era così forte C'erano due team Tre team Che erano Ci sta Ci sta Ci sta Da là 5.000 danni 5.000 2009 4.000 Ah Sono io All'host Vero Ma ero convinto Che era ancora Chi era Prima All'host Livius Eravamo in Olanda Prima Con Con Livius Ragazzi Vi lascio Giocare Così Continuate No Puoi restare No Perché Devi invitare Il tuo amico No Puoi restare Che Livius Sta in Olanda Tut Vai Faccio Un Rebertino Stavolta Vai Puoi restare Tranquillamente Puoi restare Perché sei un bot Come Pyro No Io sono un bot Sono a 856 C'è l'ho, c'è l'ho Sì, sì, lui gioca a mouse e tastiera Allora, la build d'armaguerra è Convoiatore de Steghete Convoiatore de Steghete In merito 180 Lastra riflettente In merito T a base nel calcio Compatta SG98 Caricatore 72 Punta a cava Impugnatore scanalata Stabile e celerità Ciao Allora, vediamo il boss del Samsung Vai, vai, vai Fammi vedere il boss del Samsung Sì, sta streamando Sta streamando No, oggi dobbiamo fare le partite Vai nella sua live Faccio vedere Eh, ho capito, ho capito Dobbiamo fare qualche partita Fra stasera Ma lo vado a salutare, aspetta Ma è da solo, mo? Come si chiama? Si chiama David Tettino Basso Cicchella Dai, ti ha invitato Dobbiamo andare a giocarci fra Ah, eccolo Che gioco del cazzo No, mi dissocio Minchia, sono entrato Ma è arrivato un Che gioco Ah, ma Saluto Ah, con chi sta giocando Ma che grande Fra, minchia Che stanza ha Ma guarda là con il PC Aspetta, aspetta Eh, minchia Non c'è la connessione David David, mi ha invitato Da quanto tempo? Buonasera Alessandro Buonasera Come va? Abbiamo fatto qualche vittoria Stasera Fra, però è tosta È tosta Come giocare mouse Stasera Ah, no, no Lo devi chiedere a me, bro Lo devi chiedere a lui È diverso Tutta un'altra roba Non ce l'hai massist Però c'hai un movimento Che se sai giocare È un'altra roba C'hai un movimento Diverso da pad Però non c'hai La mira assistita Come vai a riccio Fra? Ma fai i ricci? Che cazzo Stai scrivendo, bro? Cazzate Secondo te Posso mai andarceli? No Ma cazzo T'avamo invitato T'avamo mandato Ma dopo Tranquillo Non ti preoccupare Porca troda No, in passato Ho fatto mezza partita Mouse tastiere live Ma Ma proprio per cazzeggiare Divo una o due partite Così Non te lo dico Massimo in stato È stato quattro kill E non mi riuscivo a muovere Pronto? Dove andiamo? Vabbè Che volo dico a fa Control Comunque Oh Gli ho scritto Dopo Dopo Giggiamo Decise Vittorio Da Giggiamo Dai Dai Non ci credo Oh Mi è entrato questo Cheat Cheat Violet Dream Mi sa che c'è il team di italiani A control Con noi Adesso Uno ha craccato L'altro ha craccato Dopo Altene Non è Ma come Sono qua ragazzi Ecco Uno Seguito Salve 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 Non si è attendo Nessuno Però Bradi Eccola Eccola Un altro Lì Dove Salve Sperito? 0-0-0 Prenditi contro timing E' la seconda volta con chi la Oh, c'è la sua opera, secondo piano, mi sa Dove sei? Dov'è? Allora, qua Ah Nooo, one shotissimo eh, one shot, one shot Ah, 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 ah C'ha le armi Raga, ma non abbiamo fatto il drop? No, e ha pushato un team con le armi qui, Iron Minchia, comunque ti ho fatto una cover, Henry Oh mio Dio grande Qua come si è salvato No, ed è un po' E' un po' Pergare i soldi, se prendendo, aspetta eh dai niente ah mi ha fatto un altro eh lo so un attimo con la puzzola raga quando stavamo? due no è arrivato uno sul lancio sono morto sono morto sono morto è arrivato uno sul lancio roger rabbit no è pieno l'ancio ma che cazzo di cazzo ecco sono tutte intercate ma non sono morto no mi sa che non riesco a prenderlo guarda 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 dove sono sceso un faccio a quello dai come quello posso prendere quello da oggi? io no mi stai invitando david stai invitando? si eh ma è da solo? no guarda 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 guard Ma come ho fatto Cazzo Vedi qua di sopra Però vediamo tranquillo Tanto c'è tempo al giro Ti preoccupa Oh Merda 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 C'è un basso Oh come Fermo proprio il giro Oh Oh Mua È cambiato un po' Comunque Il È cambiato un po' È cambiato un po' Sono sceso No 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 c'è un altro qua sotto Guarda dove è uscito questo Dai madonna Ma come faceva a sapere carollino lo so Bah Di fronte di fronte Iron verso il nostro Road out Uno è nei bagni Uno maglato nei bagni Almeno due Sinistra Questa bomba perso Outro Uno Andréa è l'ultimo che sta attrassando dove è? qui qui ma chi sta sparando guazzo? diamoci il cambio è quello che avevo fatto la tua lupo dimmi tutto Nicola, buonasera la guancio è uscita, la guancio è uscita, la guancio è uscita la guancio è uscita la guancio è uscita la guancio è uscita lupo è uscita è beccato la guancio perché hai messo di sparare in quella situazione? oh no ho fatto c'è uno sul tetto tutto bene, non c'è male, non c'è male, grazie mille, buonasera oh, è arrivato uno fa no, 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 si è ingazzato parecchio, bro si è ingazzato parecchio eh, ho gli altri c'è vado sul tetto dei prison? eh, c'è gente, zio, stavano rompendo i loti dice? non c'è l'ho eh, c'è morto iron c'è morto tutto sopra iron no, ero lì nel bagno ah, sì, sì, lunga sotto sono tre fra ah, erano quattro in realtà, adesso sono tre oddio, l'ho crackato uno ci credo vado sotto fra scendo, dove vai sotto? da sotto, nel tunnel raga, l'ho tirato se mi coprivate dal vostro, mannaggia bombardamento da sopra prison, zio, via, 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 vieni sotto al tunnel viene ancora un altro, l'ho pure preso eh, lo so, siamo due v, uno v, uno allora, uno ti viene dalla tua sinistra di fronte sicuramente in open, se non l'avete fatto non c'è e allora è andato sotto occhio alla corticella a destra cento per cento, sta qua no vedi, sotto nello scalino no, 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 non l'avete fatto resta solo quello sopra eh, l'ha fatto lì sopra allora no, 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 no ah, ah oh è qua sopra, è qua sopra one shot oi serpentino, guarda Sarà già sceso secondo me Oh vabbè c'è l'autoresse No restato uno Magari te lo vai a fare sopra con Ancora serpentino te lo fai con la pistola Vai bella E' rimasto lì E' rimasto lì E' rimasto lì E' rimasto lì E voleva sparare Sì sì hanno fatto qualche aggiornamento Però non era Cioè non tornerà mai come era con Vertas Che era molto più bello all'epoca sicero Era molto più bello Andiamo andiamo da Davide Cicchinello Eh sono tre Anche sono partiti gli insulti contro quello lì Che mi ha insultato Sono partiti gli insulti Dai così ragazzi Dai così Si vince l'altra partita Sono tre comunque Quelli di Cicchinello Eccetera infatti Dobbiamo aspettare che Escono se no Dobbiamo aspettare che Qualcuno di loro Se ne vada Che dica Il serpentino praticamente Norman Ti permette di Di sopravvivere Quando ti sparano senza piastre Dove ce l'ho? Ce l'ho in varie classi Tipo questa Ah no In questa qua non ce l'avevo Praticamente quando ti sparano E se senza piastre Tu ti salvi Se riesci a scappare Ti fanno meno danno Si si ho startato Stavo spiegando una roba A parte che non ce l'ho in questa classe Brody Lo devo mettere Ma gli hai letato l'arma guerra a Henry? Si in teoria si Mi pare che l'ha fatta Si si Che se no lo picchiavo Vergogna Dicevo capito Quindi quando tu sei senza piastre Loro ti sparano Se tu ti inizi a correre Ti fanno meno danno E riesci a scappare Perché non riesci a tirarlo giù Davide Cicchinello Attenzione Boomer Non lo chiamare così però Ah Cicchella Boomer ti piace il mio ultimo clip? Eh che ne so I merch e Cremont Al Sam Sar Grazie mille No Norman I merch e Cremont Voglio sentire l'urlo Del Sam Sarabè Eh bravo Quando sono andato due anni fa Riccione Andai Il primo giorno Che andai lì Non c'era mezz'anima Perché faceva Pioggia Tempo Bruttissimo Quindi non c'era manco la musica Non fecero la serata Poi il secondo giorno Chiamarono i merch e Cremont Bro Mamma mia Panico Ti posso solo dire che Sono i nomi della maggior parte di tutte le ragazze che lavorano là Al barman eccetera Con tutto che sono qua a Napoli Fra Mi dissocio No ma io Riccione Io sono approdato a Gallipoli No Riccione Eh bravo Riccione già conosco tutti quelli che lavorano là praticamente Senza che li conosco Li conosco Mi devo far conoscere Vabbietto Qui Vabbietto Sulle mani Sulle mani Turo 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 Ssssssss Ssssss Oh dobblo Aspetta l'altro è sul tetto piccolo eh Aspetta che carico ha Sarà anche sceso immagino quello da là Tende Lo trattengo eh Bravo Oh no ma ha preso la piastra Iron Moor Aiaiaia c'ha l'arma d'assalto Io c'ho la mitraglietta mi ha fatto Altro è a control eh Mi ha fatto il lancio a control mi sa eh Sparo e basta Dove ho lasciato i soldi Dove ho lasciato i soldi Grande brodi Eh mi sa che non ce l'abbiamo più Qua ci sono 5000 a terra se ce l'avete No non ce lo facciamo Uè gallipoli non è in calabria No è quello è gallipoli What? Non ho capito Non lo faccio l'abbiamo più E ha primato direttamente da lì Non me lo aspettavo proprio lì Peccato Sparo e basta Comunque costano 3 miliardi di euro Allo shop No non sono più Sono 4 mila appena C'è un altro C'è un altro Piro Oh oddio a terra Ma non stava bene a me che Ma guarda questo Io stavo pure morendo Non è l'eli Mi hanno andato in salle Mi hanno andato in salle Mi hanno andato in salle Sotto che ci buscia Ok affeggiare l'elicottero Mi fa mettere le piastre Ragazzi ma perché c'è sto bug? Ma come è fattibile che è riuscito a scappare E' fuori E' fuori E' fuori No mi dissocio Mi ha detto che sono un figlio di Oh ma il lancio Oh ma il lancio Che ve lo chiedo a fare L'avete fatto Bip Bip Sono gli altri due dalle scale piccole Eh Ehm Vediamo se me le fa mettere Guarda che sono morto Ha tirato la granata Qua dentro guazzo Anche da dietro Scegli 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 Non ho spegnato da dietro Tu papi No bella Dani Mamma mia Ho preso uno con l'estale No Come ha fatto L'ho andato a terra Come li hai fatti a perdere Se vai Eh punto Non lo so manco io bro Eh è rimasto con pochissimo di vita No no Che è tutto Caccia le terre Lupo Lupo Vai con lo spam di Lupo In chat Com'è Giuseppe Ale 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 Wow Wow Ale 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 L'u Oh L'u Andiamo Ui è arrivato Fausto Buonasera Sono tanti sono Un'altra volta Ma siete morti Non ho tutti Ma è incredibile Quello che state compagando Da quel lato lì Apri sta cassa Apri sta cassa Avanti Non lo posso aprire Oddio anche da una mano Li facciamo Mannaggia Ne avevo messo una terra E cazzo Mi apro le casse Mi scoprono Non si Io Giuseppe Pendino No Mi dissocio Ma di nuovo Riempito di parlacce Oh Oh Sparo e basta Anzi Sparo e basta E' piro imbarazzato Eh si zio Perché sto facendo solo Altri due Mi sa No non ti sposta Eh vabbè ormai Mettiti qua Bella amici Buonasera Buonasera amici No granata No C'è uno sopra Oh my god This is crazy bro Knife on On prison bro One shot on prison bro Pilarius Checking Sweetwater Oh Cazzo Basta con lo scudo No dai Ma raga C'è stata una concatenazione Di gente Io ho sparato a quello di là Quello sparava a quello con lo scudo Quello che ha sparato a me Stato sparato da uno alle spalle Cioè Sembra assurda come cosa Sembra assurda come cosa It's unbelievable bro Oh no way bro Oh no way bro Oh my god Who is I think that We We lose the game bro Mamma mia Guarda che schifo bro Quel serpentino Non fa cadere nessuno comunque Hai sentito? Guarda ancora serpentino Non si Ma con le spalle Ma poi dove è scappato? Ho paura Ma porca Dove persone Sono tornata Assurdo Allora va Sparato a vedere Va Vedi Sì Esci Sei morto No Invece Io me ne volevo tirare Via uno A destra A destra A destra A destra Mi traghietta Ti buscano Ti buscano Ti buscano È sul tetto È sul tetto Adria Adria Allina c'è Entra Bravo Aspetta Audio Audio Ti buscano Ti buscano Adria 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 Fammi giocare La tattica La tattica Lì dopo che si sono sparati di tutto la sotto Uno deve stare a one shot Le tiro uno via Rimango uno v2 L'altro scende perché lo vuole salvare Tutututututututu Laserato Rimani uno v1 E poi Se la giochi tutto lì Le tettiche Le tettiche Le tettiche Di quando giocavo a cercare di distruggi Com'era RFG RFG Tututututututu E poi non lo so Come on Dai ragazzi Ve la dedico questa win Let's go Let's go Andiamo GG Sinu Come sono babà Oh È buono il babà Guarda che Ma mi manca Quasi Mi manca il babà RPG No In realtà si dice Come tramonte Tramonte fa No Tramonte fa RPG Grazie La sub in regalo Bomber Vai con le sub in regalo Vai Vai con le sub Sub Grazie Grazie brodi Grazie mille Allora Non so perché sento un eco Però va bene Andiamo Andiamo Vediamo David Ah ha regalato la sub a Dani Ha regalato Così non vede la pubblicità Grazie Davide Davide Attenzione Davide ancora gioca Spara tutto Spara Non so se in live Non gli scrivo Chi Ma This is a bazooka Brrr O ancora devo fare quella clip Mi devo studiare qualcosa Devo studiare qualcosa Di divertente Lì C'è una clip bro Quando c'era l'evento di facebook Sì Praticamente C'era gente ovunque C'era gente dal brasile Dovunque Fra E a un certo punto Uno mi spara un bazooka Lo guardo tipo Non te lo dovrei far vedere Lo guardo storto E faccio Sì se bazooka Ora arriva Ora arriva a ringraziare Allora Bravo bro Eravamo noi Itas che hai fatto Scusa per qualche offesa Ma in game ci sta Eh ho sentito qualche offesa Eh Naggia la miseria Fortunatamente C'era il volume basso Quindi non ho sentito Tutto completamente Però vabbè Capita A volte capita Basta che non ci augurano morti Cose strane Ste cose qua Con vaffan bagno Vaffan C'è capita Capita anche a me GG Me la siete giocati fino alla fine Vabbè Io ho aspettato in realtà Che voi Vi ammazzavate con gli altri E poi sono intervenuto Ma la so giocato di tattica Però tu potrei salvarmi Private No Ma dove Ci sono le private Luigi No Dai Che sono tossiche Tra l'altra volta Viene di parolacce Insulti Gente che augurava roba Pezzo di fango di un Luca Chi è che c'ha la Bella questa Chi è che c'ha Il Il caschetto Con Con la cresta La barra delle sapo Sono completate Grande Grande La facciata è la foca No vabbè Italian Barbie Amore mio Amore mio Taccato dalla spalla Immagino che Barbie Stia facendo le private Come al solito No possiamo andare Sì fra Quei tossici Ma li mutiamo Eh li mutiamo Non trovo nulla bro Oh chi ha aperto la porta qua In teoria c'è soldi Tu Ti lascio i miei cento Tanto non valgo nulla Ui C'è una challenge Lo faccio Ho una challenge bro Devo fare 10 kill Senza lato di gioco Vai Le faccio bro Le faccio Le faccio Le faccio Le faccio Le faccio Sono a zero Sono a zero Quindi è partita È partita la challenge Dai 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 Sono senza audio di gioco Grande Bella 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 Vai 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 Raga Prendi l'esempio Cioè Vedi come sono facile Stai Eh Mica tanto Zio Ho mutato tutto il gioco Fra Davanti a noi Piero Lì dentro Parlate Date ping Qualcosa Non lo so Marona che c'è Chi è nato Mi ha fatto questo E uno Uno fatto Uno sotto prison Fatto Un quick Oh Questo cosa Dice Due 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 Parlo al centro Che cumulo Bella Francesco Quanto è brutto Farò giocare senza audio Cioè Nel senso Silenzio C'è un silenzio Disarmante Madonna che due Coglioni Porco No No Mi dissocio Dai ma chi è Mi dissocio No Mi ha pushato Te l'ho fatto Te l'ho fatto Ah E me lo so Fatto fuori Pensavo non ci fossi Peccato Allora sono a 4 Bro Il silenzio degli innocenti Bro Sono a 4 kill Peccato Oh no Non lo posso mettere Ammurante sottofondo Sì Se no Mi bannano diretto Si sente L'eco di quel Corco 2 Chi è che me spara Ah Aia Oh Oddio Un altro No c'è un altro Eh non si sente Non c'ho l'audio Marco 2 Che culo Sono a 5 bro Sono a 5 Sono a 5 Giuseppe Giuseppe Inizia a tremare Mi serve il lancio Assolutamente Sto tornando Bro Buonasera Buonasera Mustafa Ragazzi Ho una challenge Devo giocare senza L'audio del gioco Quindi non mi preoccupate Che non si sentono Gli spari Passi E queste cose qua Appena arrivo a 10 Rimetto l'audio Ah c'è uno sulla torre No 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 Non te voglio Ressa Eh vabbè niente Volevo prendere Le piastre Ma che c'è una piastre No Uh vado a nova Ma ci sono dei ping Tiene Tiene Pairo No Urgotana Caccadissimo No che bianca E bianca Sinistra No Ah 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 vabbè Mi hanno fatto Sono a 6 A 0 A 0 Raga Sono a 6 A 0 Qua giù Uno a terra Mannaggia A me che mi avevano sparato Già Porca troia C'è ancora il lancio Oh Da boccione Da boccione Mi ho fatto ammazzare 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 No Non morite Non morite Regà Non morite Porca Qualcuno fa eco Con l'audio Comunque Incredibile Mi serve un UAV Fra Se no Non ci capisco niente Uh Atterra uno Sulla torre Dai Confermate Confermate Che è una kill in più Madonna L'hai confermato Lupo No Sulla torre No E' a terra Non c'è confermato Vedi un po' Ma quando Era vivo Quello sulla torre Eh vabbè Avrò Te lo vado a confermare Eh Si sarà arrestato No 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 E' qua Che Niente Si è arrestato Ah Non si è arrestato Adesso muore Da tre ore Che è lì A terra Come cazzo Fa ad essere Ancora vivo Che brutto Che non ti sente nulla No No Sare arrestato Non mi ha dato la kill Guarda Ma come è possibile Ma che ne so io Assurdo Nessuno riesce a fare UV Regà Lo faccio io Ho capito Mi sono bloccato A sei kill Zio Eh non c'è il carrello Devo andare di là Buonasera Vincezzo Eh ma se vi metto L'audio a voi Poi Capito che succede Succede che poi Giustamente Dici Eh ma Come facciamo a sapere Che non stai sentendo L'audio Capito Quindi Lo devo mutare Per forza Sia a me Che a voi Non c'è Non c'è soluzione Non mi fanno Pire il drop Niente Mi fanno Vai Sette Ma quanti sabbi Regalo Cinque No C'è uno sopra Che mi ha sparato Aiuto 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 Via 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 Sono andati Sotto al ponte No Siete morti Tutti Sono otto Sono otto Regata Non mi morite Tutti Che cazzo Mi mancano Mangano Due kill Mi mancano Sì ma Sto challengeando Sempre one shot Sto challengeando Che Sì Imbrazzante Vai Sì ma Ha detto che Che citto Fra Ha detto che Che citto Vai Dieci Dieci Zio Sono a dieci Buona Buona Vabbè Mi faccio L'ultima Senza audio Però lo riattivo Sono a dieci Mi serve una mano A fare l'undicesima Dai È finito L'uavivra Oddio Sono nel panico Vabbè Io vado sempre puntato Facciamo così va Davanti a noi L'hai visto? No Non l'ho visto Non sento un cazzo Ah ho visto L'errata Aspetta 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 Perco due No Sono tanti Sono tanti Sono tanti Porca miseria Eh no 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 È la madonna Tutto il team Che è successo? Mamma quante ce ne sono Wow Patrick Grazie mille per le cinquata stelle Patrick Purtroppo Ci sono i cecchini Grazie mille per le cinquata Bro Dai non ci può andare Ah ma è Sei disattivata la cosa Cazzo io mi mangio giù zio Non riesco a fare anche l'undicesima Senza audio Ma è un duro Ma che posto di merda In cui sto comunque No 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 Che cazzo Perco due No E non ci sono riuscito A fare l'undicesima Però giusto giusto dieci però Vabbè rimetto l'audio Guarda là Per tanto Per tanto C'avevo la piastra E niente Challenge riuscita C'è Proprio sul filo del rasoio Dieci spiaccicate bro Giuseppe proprio Spiaccicate Dieci esatte Fra Non c'è credo Ho fatto più kill di voi Senza l'audio del gioco Vergognatevi Allora Ciao lupo gatto Come va Come lupo gatto zio Come lupo gatto Dopo ci andiamo alle private Penso Vediamo un attimo Vabbè andiamo Giuseppe Giuseppe Tutto bene Comunque Tutto bene Abbiamo fatto Vari vittorie Ero ad 8 e 54 Stasera No Quanto stavo Non mi ricordo Quattro vittorie Sicure l'abbiamo fatta Regà Sicure Guarda Tenente sta giocando Siamo pari Siamo pari 8 e 58 Tutti e due Non ci credo Buonasera Luca Buonasera GG signori E si va con questa challenge Poi c'è stata una volta In cui addirittura Avevo vinto la partita Ehm Fammi pensare Però 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 Eravamo Io e altri due Del mio team E E avevamo Amurante nell'orecchia Che faceva Ieri sera Eri a 8 e 51 Ah Ero a 8 e 51 Ah Ah abbiamo fatto Sette vittorie Stasera Possibile Possibile Era Era Eravamo a 8 e 51 Io mi son perso Mi son perso Quante vittorie abbiamo fatto Questa sera 4 o 5 sicuro Perché mi ricordo Però 7 Non mi ricordo Che ho fatto Sette vittorie Ma ti bannano Perché siete troppo forti Vai che Mò bannano Piro Non vedo l'ora No mi bannano Nel senso che Mi cacciano E mi Lo cacciano Perché dalle private È troppo forte Quindi lo buttano fuori E rompe le scatole Abbastanza Ah no Stasera 4 o 5 Ah allora Abbiamo fatto qualche vittoria In più ieri No Non era 8 e 53 Tipo Perché c'è la schermata Tutta De colore scura Davide Ma va T'ha staccato M'hanno bannato Ah fra Ha staccato David bro Ah Staccato Eh ma io te l'ho detto Non fai niente Next time Eh next time Allora Mi ricordo Che eri sotto Di 4 o 5 Win In base al tuo amico Sicuro 4 sotto Stavo Se non mi è errato Ma che salto In testa Gli ho fatto A quello Che salto In testa Gli ho fatto All'amico Fritz Mamma mia Proprio Il canguro Vabbè Continuato a spararmi Non ero morto Di più No 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 Era una challenge In cui vedi Dovevo stare Con l'audio Amutato Tipo così Vedi Che non si sente niente E dovevo fare 10 kill Partire dai Hey baby Mom Donna Go Some Mom Hey baby Now Oh Che è successo Oh guarda questo Ma non finiscono 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 Che la scomoteca Dove è Giuseppe Fra Oh ha scammato Scam 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 Revisore 5 sabbi Regalo Scam Buonasera Augusto Aiuto Oh no C'era un altro qua Incredibile Coccodrillo Coccodrillo Come No Levate 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 Ma mi hanno rubato La kill Guarda Mi hanno rubato La kill Guarda Oh Vabbè Ma è appena arrivato Questo E' bendato Wow Bendato Forse con un occhio Forse con un occhio Solo Se può fare Oddio Senza occhi E' impossibile Devo avere i cheat Fra Eh me l'ha pingato di sopra Uno mensa Mi sa Capitan Jack Chlupo Parapop 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 Dici Chi le fa Quei piedi Oh Aiuto Mi è caduto Il piede Sotto i bagni Sono senza piede Che è successo Ma dov'era Infrattato questo Poiché ho capito Dove si era Infilato in realtà Guess Si era Nell'angolino Sugli scatoloni Sicuro Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Come si è staccato il bollicione? Ah velupo, morituri te salutano Ciao Raffaele, buonasera Oh Oh Oh, iron Eh vabbè in lancio Ci stanno i bodyguard sul lancio È impossibile No ma io sto avendo una cifortuna raga Stapartita Cioè vado da dentro la stampa Trovo quello con l'RB Mi hanno spionato 300 volte per spusciarmi Mamma mia Hai visto che bello? Serpentino Si salva Questo prende il biscotto Anguria, biologia Eh chi ti ha chiamato qua? Non sapevo un punto che te lo fai Oh mio Dio No Ma porco di quel porco Mobstep Aiuto Gesù aiutami tu Esatto Aiutami tu Che si blocca il personaggio Si blocca il personaggio seduto Cazzo Possibile Mamma mia Coccodrillo ti ha killato A me mi ha killato Gesù aiutami tu Veramente mi devi aiutare zio No ma io non ce la faccio più a giocare in queste lobby raga Ma sono troppo 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 fermo Troppo immobili sulle d'alto Mi stanno facendo sclerare Dai inizio partita raga Se mi uccidono soltanto C'è bo Non fa niente Che mira che hai bro Hai visto? Meno male Meno male Almeno quella Almeno la mira c'è bro Aiuto 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 Ragazzi Sto con l'avvisore In un posto bruttissimo Gente ovunque No A me morite A me morite Porco due Vabbè dai me sono entrato in due sotto Mannaggia Marta questo Oh che sta succedendo Aiuto C'è uno sopra C'è uno sopra Che è con me Quazzo Mi ha buttato mi sa Ho fatto Ho fatto Gesù aiutami Fuoco Raga non si può fare un passo Comunque Un passo non si può fare Non mi ha asciattato Un passo ad delante Maria Un passo a Baco Peghi il tuo capitano Sono capitano Un passo ad delante Piro Mannaggia il tuo capitano Un passo ad delante Piro Bannaggia il capitano Un cino Ah festa di sordo Là dietro È qua eh No che c'è un po' No che cazzo ho fatto Mi dissocio Eh mi sa che le sabbi regalo Sono state scammate ragazzi Giuseppe Ha scammato Ha scammato È da mettere nella blacklist Dovremmo creare una blacklist Anzi dopo la creo Dopo creo la blacklist Dopo faccio un comando Punto esclamativo Blacklist E mettiamo tutti i nomi Di quelli che non hanno pagato Le challenge Ultima esce da lì Ragazzi E che nella blacklist Non lo calcolo proprio Neanche lo saluto Guarda No no Facciamo il comando Perché mi sono rotto il cazzo Fra Ce l'ho si è buttato a mano Oh no Vabbè rega Niente Siamo moriti tutti lì sotto Così a caso Vabbè Potevamo giocarcelo in mille modi Mi fa piacere che siete morti tutti Oh mio dio Penso che finirà molto male No È perché mi ha dovuto sparare quello da sopra Sennò questo non lo facevo Perché Peccato Allora Aspetta Iniziamo a fare la blacklist Che sono un po' di nomi Allora Chi è? Chi è? È stato un piagere Eh lo so Fox Grazie mille Ciao Henry Bella 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 Come si chiamava Joel? Come si chiamava Giuseppe? Giuseppe Come si chiamava bro? Bello Aspetta Andiamo a fare un po' di Di privato dai Andrea grazie al follow Benvenuto Come si chiamava bro? Facciamo la blacklist Che mi sono rotto le scatole Lo so però Il video me ne è capito Un peccato che Si è bloccato Ricordi come si chiamava zio? Non lo so Zio Allora Ah grazie mille Aspetta fammi vedere se stanno facendo private Allora numero uno Poi c'erano un po' di gente Poi Poi c'erano altre persone in realtà che dovremmo mettere Non manca Non manca punto di tv Poi Abbiamo Un altro te lo dico io Perché me lo sono segnato tempo fa Mi doveva 10 sub Angelo De Luca E son due Poi c'era quel C'era quell'altro Che mi doveva 7000 stelle Per la challenge vinta E quello è un terzo da mettere nella blacklist Non mi ricordo come si chiama Quello Come si chiama quell'altro Eh non ce l'ho Non ce l'ho Segnato qui Però Vabbè Bravo Gioele Bravo Lui 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 Fra grande Grande Lui 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 mi doveva 7000 stelle Bro Ma non le ho mai viste Quindi Blacklist Mettiamo a 3 Poi la lista continua Perché ce ne sono altre in realtà Che ma non mi viene più Buonanotte Augusto Metti pure quello delle 7000 No no Ho messo quello delle 7000 stelle Me lo ricordo Ho messo Ho messo Siamo a 3 Poi in realtà ci sarebbe un quarto Che mo non mi ricordo più Perché era Mesi fa Che aveva fatto Una challenge Non mi ricordo A soldi Addirittura a soldi Che pure è sparito Dopo che l'ho vinta Giustamente Ci siamo su Discord Io sono su Discord Allora Attenzione perché Davide Po 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 Politaro Grazie mille per le 100 stelle Ma perché fa le sfide Se poi non paghi L'ho presa per il culo L'ho presa per il culo Fra perché loro Giustamente Vogliono prendere per il culo Tanto dicono Tanto non la vincerà mai Poi uno la vince E fa una figura del merda Eh c'era anche un altro Gioele Sì sì C'era un altro Poi già stavo un altro Ma di mesi fa Che fece una challenge A soldi Eh non mi ricordo più Chi è sincero Non mi ricordo più Però visto che Ste cose Cadono più Frequentemente Allora a questo punto Basta facciamo una blacklist Allora Ha detto di entrare nel Discord Di Piro E ma qual è il Discord Di Piro Oh mio dio Eh ma perché ci siamo Spostati E ma qual è Oddio No A me già mi va lento il PC Scusate un attimo Sto cercando il Discord Di Piro Ah eccolo Eh Sì Vabbè mi deve spostare lui Perché sennò Non so come si fa Scusate eccomi Uè Mi ha spostato Grande Dovresti segnalare All'IFB Che gli dico Frambo Hanno fatto la challenge Sono spariti No vabbè Capita Capita A me è capitato Un po' troppe volte Fra Ma neanche challenge Che dici Te la faccio la sub Dai Aspetta Ma neanche challenge Che dici Sai Cioè uno mi fece Una challenge difficile Di 7000 stelle La vinsi 7000 stelle scammate Te li regalo io Un altro Mi ricordo Che bene Che aveva Ah no C'era uno A parte uno Di 50 euro scammati Poi c'era un altro Adesso mi sono ricordato Ai tempi di Verdask 20 euro Pure quella Pure quella scammata Poi ci fu una challenge Pagata Come pagamento Non completo A metà A metà però Non del tutto Ci fu una challenge Pagata non tutta Però vabbè Io gli dissi Vabbè Non fa niente Ma è tranquillo Mal che vada Mi offri qualcosa Se mi becchi Poi in giro Se mi beccherai In futuro In giro Era di 100 euro La vinsi Al quarto tentativo Però alla fine Mi mandò Mi mandò Quasi tutto Oh Che hai fatto Asub Eh Ti ho detto Che te la regolavo Io una sub Grazie mille Per la sub Benvenuto Benvenuto Per l'abbonamento Che dobbiamo fare Non ci sono le private Facciamo un'altra pubblica Sì ci sono le private Però stanno finendo Ho detto che dopo Mi invito Allora facciamo una pubblica Allora Ma non è tanto Per essere le soldi Aveva presa per il culo Anche Anche C'è non la fare Allora io non so Come gli altri Magari c'è chi Addirittura Banna Se roba è qua O l'insulta No mi hai pagato Non fa niente Però sappi che io Non ti prendo più seriamente Perché se me la fai E mi prometti Che se Ci impegniamo Facciamo quello che La sfida che vuoi tu E poi la vinco Come rispetto Mi aspetto che tu mantieni la parola Se tu non mantieni la parola Non la manterrai mai Per me Per me perdi fiducia E rispetto Allora io non ti considero Non è che non ti banno Sei il benvenuto qua Ma io non ti prendo più seriamente Per me hai fatta La figura del merda Mi ha detto Barbettina Dio a Piro Che stanno riaprendo La lobby È crashata Che è Barbettina Italian Barbie Ah Tu dici Barbettina Eh vabbè Dai Ron è diminutito Facciamo Facci invitare Ma che non mi invita adesso Dai ma chi lato talebano Dai non vuoi giocare questo Talebano 4 No se ci invitano Vabbè ho quittato Invitati Ci invitati Dai mi hai fatto quittare Per andare da Barbie Vai 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 Infilati Infilati Infilo ovunque Io lo so che tu Io lo so che tu Lo vuoi infilare ovunque Punto esclamativo No mi dissocio Punto esclamativo Ulta Lo infilo ovunque Punto esclamativo Lo piro Lo piro ovunque Ci inviti Barbie Mi sa che mi sta salendo Un po' eh Che ti sale Eh la febbre Wow A fuori di giocare Sale la febbre Ma che c'entra La febbre dal warzone serale Mi ha invitato Re prince Su Ah vabbè Ah mi ha invitato Barbie Madonna Vengo meno Allora What is No come server pieno Dai No mi da server pieno Ciao brodi Fra scam Siamo usciti anche dalla partita Pensavo forse la privata Perché ci stanno invitando in privata Sì mi ha invitato Ma è pieno E' stato veloce Puttate fuori gente Ti invito Ti invito Ti insegnalo se non paghi Oh sono entrato Sono entrato Tre posti raga Mi invito Mi invito Mi invito Come vi invito Come vi invito Come vi invito Non so come invitarvi Secondo i ragazzi Nella live Non mi fa invitare Piro Non mi fa invitare Piro Come non mi fa invitare Piro Non ti riesco a invitare Ma sei una merda Ma che vuoi Esce al lupo bianco A parte che Scusatemi ragazzi Non volevo entrare qua Mi è entrato per sbaglio Esce al lupo bianco E' stato pazziato Come si sa Non mi preoccupato Ciao Come cazzo Come cazzo esce dalla squadra Abbato una squadra Ciao Non ti riesco a invitare Niente fra Sei accessibile Non ti fa invitare Non mi ricordavo Come sono inaccessibile Ma che cazzo L'ho detto Sei accessibile Ma non ti fa invitare La privata di chi è raga Chi è l'hosto Ancora Sono rientrato in squadra Non ce voglio stare Sta squadra Niente Partita la privata Zio Ma bene dai Giocate Non fa niente Ma che giocate Io non gioco con questa gente E' da sonno No no Sono andato Sono uscito Mi ha invitato Aspetta Mi ha invitato Aspetta Aspetta Prince Ah ho sbagliato Privata Ok ha detto Che mi invita Tony Ride Andiamo 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 Oh Io sono entrato Da te Sono entrato Cioè Eh siamo già a 38 Sì ma è tutto full È tutto full Dove ci infili No non lo so Qualcuno che parla Ah Ecco chi è Lorevski Lorevski Che mi segue Su Instagram L'ho beccato Oggi che mi guarda Le storie Io guardo tutto Allora No c'è anche Ma tu sei squadra Con wipe Ma è squadra Una è piena Ma dove vado Vabbè sono in squadra 9 con te Fra con gorilla Con gorilla giallo Com'è impossibile unirsi alla squadra Con gorilla giallo E Fobix Vio nonno Io Io guazzo C'è posta C'è posta Siamo 39 guazzo Invitato Non mi fa entrare Se non mi inviti Non mi Non mi ti fa invitare Sono 39 fra C'è l'ultimo posto Eh ma non lo fai invitare zio Tu e ste private Invita Fobix Fobix 95 Ma c'eri Fobix Invitami Invitami tu Non mi fai inviare Non ti posso invitare Non mi hanno startato Perciò Ok Maria Maria Chiudi tutto Maria ci stanno rintracciando Chiudi tutto bro Chiudi tutto bro I gorilla Gorilla giallo Gorilla giallo bro Gorilla Perché Gorilla Gorilla C'è zio gorilla Lo zio gorilla c'è Giochi da molto gorilla Giochi da molto Giochi da molto gorilla Da quando è che giochi a Call of Duty Gorilla Non è manco prestigiato Poverino Aspetta Non mi fai sentire Da quanto? Due anni Ah due anni Da quando è uscito Warzone? Sì forse Ma tu non dici In generale Con Call of Duty Eh in generale In generale Ah è tipo dal 2017 Un culo Quanti anni hai? Cosa? Quanti anni hai? Quattordici Ragazzacci visto che è l'una Io me ne vado a letto Domani lavoro Quattordici Quindi nel 2017 Lei aveva la bellezza Di cinque anni No No scherzo Dai Buonanotte Chi è che va? Buonanotte 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 C'è buona continuazione No Fermi te Ma non è quanto anni Aveva nove Però dai da nove anni Hai iniziato a giocare Minchia tra gli ardi Allora a questo punto Porco due Dai 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 Gorilla gioca dalla pre-storia No Mi dissocio Stavo scherzando Stavo scherzando Però non ho quattordici anni Comunque Sedici Dieci Dodici 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 Undici Undici Quei sette e mezzo Sta ancora dalla pancia Sette anni Ah undici anni Comunque Undici A che ora Sì Oh povero gabbiano Dove mi trovi Ci sta Ci sta Ci sta Vabbè c'è divine che ne ha quattordici E c'è quell'altro Ego challenge Non è No ma sto dormendo Sto dormendo Gabbiano Sì ma sveglio Povero gabbiano Tra yardano Ah tra yardano No sono stanchino Gorilla Comunque mi dicevano che gorilla Gioca dalla pre-storia Ecco qua Hai visto Bellissimo Gorilla Avrà ventordici anni No Mi sono Squadra uno Ah Ah mio E allora come ti vedo Salvo lo conosco Ma salvo il moderatore di qualcuno Eh lobby chiusa Vabbè signori però Chiusa Vabbè Però Cioè dico io Se non sapete organizzare una privata Ma state a casa a mangiare le patati Sembi grazie del follow Benvenuto Poco tra yarder Molto poco tra yarder La lobby Io non voglio sapere niente Io sono venuto per specchettare Continua a crashare Si emoziona la lobby Eh si emoziona Ma si emoziona perché entro io Perché entri tu Ma perché è crashata 50 volte No ma siamo entrambi Non lo so Entrambi Insieme non possiamo stare Aspettate raga Non sento barbie Mi state parlando sopra Ah sono su facebook Allora sono su facebook Mi ha invitato salvo Mi ha invitato Oh mio deo Vediamolo Potrei stare anche io Andiamo Dai grande Si si invitami Vabbè andiamo Mi hanno invitato Vediamo che succede Buonanotte giovella Pronto Pronto Rizio Rizio Ti invito Dammi il te Grazie per il follow Grazie per il follow Benvenuto Sono anche Guarda Sarei veramente Ma veramente Ma veramente Contento Se donassi anche 100 euro Su paypal Grazie Stai zitto Grazie È uno stress Questo luogo bianco Raga Eh però No aspetta Allora il suo ID È sal V U Sì mi ricordo Che salvio È moderatore Di persan Ma Non mi ricordo Se il suo ID Sia sal V U U Perché se L'ID Di gioco È sal V Allora è lui Eccomi Pronto Guare Prinze U Che è successo C'è Barbie Entrata Sì c'è Squadra 2 Squadra 2 La mossa finale Non te la leva nessuna No Qual è il suo ID Non è lui Sì Io penso che faccio l'ultimo Io volevo andare a dormire Veramente non ce la faccio più Sono troppo stanco Capito Io pure sono stanco Di sentirti Bravo Hai fatto il video Oh ti ricordo Il moderatore suo È salvio personaggio Dico Personaggine Roba Già Ti ricordi Ti ricordi Luco No non mi ricordo nulla Come non ti ricordi nulla Dovrebbe essere salvio personaggi Dico Vai tranquillo Vai tranquillo Io ricordo Tutto di tutto Quasi No No Non è bello Troppo buono sei Ti ringrazio Hai ucciso Già Di parte Si parte Domani a form Rubo bianco PS Giuseppe Ho una memoria Di ferro Più o meno Salvate il soldato Chissà gorilla che fine ha fatto Regà L'abbiamo perso L'abbiamo perso Domani tutti a forum Signori Rubo bianco contro Contro I scammer Ancora Davide Ancora Davide Con le 100 stelle Te l'ho fatta io Stasab Forza Dai Grazie mille Per le 100 stelle Erano 5 Quelle lì Le sub Scammate Erano 5 Forza Forza Dove andiamo? Lupo contro i truffatori Di challenge Andiamo Perché Control Control Scendiamo In vita Facciamo che Non scendiamo Proprio Signori Andiamo a mare Restiamo sull'aereo E andiamo Contro Andiamo Contro Il ponticino Il ponticino Ma do 400 Ma do Ma do No 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 Ragazzi Una congiura Stanno sabotando La partita Ci stanno sabotando La partita Ma non si fa un stop Ma non si fa un stop Davvero Davvero Sono la puzzona Quindi Perciò Davvero Andato a forum Bianchi Veramente Andato a forum Quanto Quanto mai c'entra Come Come Meno male Che smesso Il GTA Che annoia Tanti piaceva Fra Eravamo 600 Su GTA In live Ok Ci voleva un po' Di pazienza A seguire il tutto Ma ci sono state Parecchie scene belle GTA Ho smesso Perché era diventato Tossico Quattro per i saliti Uno dietro Prince Uno a terra E' uno a terra E' uno a terra dammi 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 posso scendere lì? più o meno penso che ci entra guarda questo non c'entrava un cazzo è pieno io sto iniziando a perdere i riflessi one shot eh wipe era un'agenda vabbè mi faccio fuori da aspetta 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 due secondi aspetta un attimo come no mi ricordo mi ricordo leone eri in polizia no? eri anche in polizia si eri anche in polizia con me ad ascoltare voi che parlavate ore che noi per quanto vi riguarda eh ma c'erano delle scene in cui parlavamo molto ma altre in cui erano molto divertenti eh erano alcune veramente divertenti come le scene siamo a sede delle risate in alcune scene sono craccato di questi c'erano se le scene parlate quella dove si sparava un pochettino ma lo so e guarda via chi lo volevo chi lo volevo lo volevo trollare ero che vuol dire ci credo ci credo io ho sbagliato classe ho preso vabbè l'NZ oh ah ero wow 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 scusa guarda nella fine allora ah allora c'era un altro leone che era in polizia c'era un altro leone in polizia come ti chiamavi su GTA perché io conoscevo cioè mi ricordo un leone che era in polizia eh caldera ne gioco una ogni morte di papa sincero da quando hanno tolto Verdask non mi piace proprio caldera però vediamo se partecipa alle world series mi sa che gioco caldera no ho sbagliato di un uomo classe ah perché qua sono in privata è vero in pubblica ce l'ho aaaaaa in pubblica ce l'ho solo a secondo sbagliato dovrebbe essere una delle ultime classi quella giusta qua in privata il lupo ha cambiato arma no è che siamo in privata e non c'ho le classi io uso in pubblica ho sbagliato classe france in pubblica gioco STG e arma guerra qua guardo e qua c'ho la K dai dai perruccio 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 in pubblica Sì e cambiano un bel po di cose dopo di spiego sta arrivando uno prince sta arrivando uno da prison 22 da prison casa piccole tra d'uno infatti vado me ne vado da fra è sopra e sopra sul tetto è sopra ancora uno me lo da sopra in volo in volo in volo in volo bravo lui one shot uno sono due però è salite salite a merda merda uscia mi buscia mi buscia da sopra lo porto giù hai chiuso la porta di là è siamo 4 con no scusa 3 contro 3 che cazzo è ma dai dai cazzo è a destra non ci credo vabbè dai siamo 4 contro 1 no scusa 3 contro 1 fatto 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 ma che è successo ma che è successo la cappa non male nooo no 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 mi dissocio adriano in realtà non è vero basta basta regolare la la sensibilità di come giochi con gli analogici non è vero no non comprare quella merda lì fra cimia che io non lo concepisco basta che regoli bene la sensibilità devi regolare bene la sensibilità degli analogici con la mira e via e si sistema gg bro si è la capa di black ops ragazzi pronto 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 ah non hanno insultato meno male questa privata non era tossica allora mo vi dico tutto a me a me allora mo ti spiego da mouse non c'hai la mira assistita però non hai neanche il rinculo che hai col pad perché con tutto il braccio praticamente mantieni il mouse appoggiato sul c'è un po' dell'inculo ma non è come quello del pad è gestibile ci sono alcune armi che le riesci a gestire molto bene da mouse l'unica differenza è che non c'è la mira assistita e in realtà se diventi forte mouse tastiera hai un movimento che col pad non riesci a fare ha un movimento diverso non so come spiegartelo ti riesci a girare prima di tutto più veloce e sei molto più veloce però non è facile perché devi cioè tutti i comandi sono sulla tastiera cioè devi usare una mano con cinque praticamente dita per fare tutti i tasti sulla tastiera e poi l'altra mano devi dovresti impostare bene il mouse con più comandi in modo tale che non premi tutto sulla tastiera ma premi sul mouse quindi dovresti avere un mouse che c'ha tipo i tastini laterali è un macello io ci ho provato è un casino non è facile ci vogliono anni per imparare buonasera simone diciamo che sicuramente il movimento ti migliora il movimento il mouse tastiera che non puoi avere col pad però la mira non c'è più la mira assistita che volevo dire basta che guarda con la mira sul pad lascia stare che io ho 12 e 12 non usare 12 e 12 metti tipo 7 e 7 metti 7 e 7 e metti la sensibilità del mirino a 0,85 metti curva, reazione dinamica e mira standard vedi che già migliori a sparare mo ti faccio del settaggio Alex non ti devi accovacciare da vicino devi saltare al massimo ti srai a terra ma non ti accovacci sennò è più facile ammazzarti perché se ti accovacci ti mirano in testa eeeh esatto usa 7 e 7 ma devi regolare sta roba qua devi mettere il moltiplicatore mirino a 0,85 devi avere la curva reazione e mira dinamica e mira assistita standard invitatemi fra sto un attimo spiegando una cosa in chat eeeh non lo so è di salvo eeeh che stavo dicendo ah eeeh te devo fare dell'arma guerra eeeh no no in pubblica non sto usando più il grau ragazzi sto usando l'STG perché mi sembrava migliore però adesso stavo provando anche l'AK in privata mi sembra buona eh forse quasi quasi cambio con l'AK dov'è l'arma guerra? è qua è questa qua oh na 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 quadra 5 no fra resta pulito fra non te compra quella merda mi incazio se compri quella merda eh te lo dico e non ti credere che funziona che tu lo compri l'attacchi e va non funziona così eeeh eeeh allora questa è l'arma guerra hai evitato? aia chi è entrato? ah lo so no bella raga o sta a sedere a me butti i soldi fra bella raga no non è libera c'è Queen lupo dai ti muovi a gioinare cazzo sono in lobby voi dovete venire squadra 5 ah ok ok vai ci sono mi devo un attimo salvare il settaggio di questa AK perché mi piace un sacco lo devo provare anche in pubblica che questo è un vecchio AK che avevo non c'ho il settaggio più lo devo mettere è fatto bene comunque abbiamo fatto un botto di bombe prima buonasera Michael si però quei cheiter che becchi sono da computer fra c'hanno i cheat da computer ah l'ho usato l'amico mi dissocio fra ma dai ma perché eeeh si rovina tutto fra si rovina tutto tutto così cioè se uno si butta dal ponte uno usa quella merda lo sa aia porco ah mi sono fatto male tutti usate quella merda aaa porco e se ho chiuso il dito madonna di dio fa un bagno ma fa un bagno che cosa che cosa Dria che cosa Dria non ho visto un bugiatore colpa e munizioni eh in modo la faccio vedere da qua che ce l'ho lo stesso eh allora è questo del cronus bro del cronus del cronus del cronus ah non lo so si si gli occhiali funzionano ma fortunatamente stasera non mi stanno facendo male gli occhi perché oggi non ho passato molto tempo al computer capito ce li ho qua eh appena me ne inizia da fastidio ce li ho qua gli occhiali ma stasera fortunatamente non avevo fastidio agli occhi quindi non li sto mettendo sono stato veramente poco oggi al pc fortunatamente però appena ce li ho qua non so buoni funzionano perché sono pure trasparenti quindi cioè si vede bene si vede benissimo guarda per guidare dipende cioè nel senso questi qua non sono graduati eh questi qua non sono senza la gradazione bisogna gli devo chiedere se le fanno anche con la gradazione questi qua sono senza sono solo con la lente che ti protegge da dalla luce del monitor quando ti fanno male gli occhi allora voglio vedere la mira è questa qua aspetta che dovevi vedere la mira assistita è standard fra dinamica curva dinamica la mira standard come questa roba qua è niente di comunque di particolare di nulla di nulla mario ci siete? che è una e mezza? chi è che manca? eccomi eccomi la no ah ci siamo dai dai inizio ad avere fame anzi parla da sub benvenuto dove? dove? per me scendere a contro cioè figa? vai vai il ponticello tutto sopra nooo ah 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 buonasera roberto buonasera passa per il bagno si su amazon mi pare 15 euro già stanno nooo nooo ho fatto una cazzata bravo ho smirato ho smirato forse è anche meglio mi sa ti porto a forum se non è così nooo mi dissocio nooo e di solo? nooo non lo so ma è due due qui inizia ad essere cotto raga inizio ad essere cotto cotto è stracotto ti do le piastre ma di questo dov'è sto nemico? ah che l'hai fatto tu oh c'è di nuovo mp9 ah ma mp9 ho capito chi è aspetta aspetta cotto ha aperto la cassa aspetta aspetta cotto ha aperto la cassa cotto vi faccio io non ti faccio il roll out non ti faccio l'out E' arrivando un nemico, attenzione in alto, ultimi obiettivi trovati alla prossima destinazione Eh, sono loro, sono quelli che mi hanno detto l'u-u-u-u-u Ma cosa hai... Ah, questo mi ha detto che l'avevo pisciato in testa Io farei anche una lista blacklist per tutti i cretini che insultano quando vengono chillati Mamma mia, qua la lista diventa sempre più lunga No, no, ti mi va caso l'altro buradu Adio, adio One shot, one shot, one shot, one shot Ok, c'è uno là Sì, sì, stiamo giocando una privata, una privata con tutti gli italiani E già inizio a vedere un po' di tossicità Sì, 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 esatto, a te cercavo MP9, infatti dicevo... Ah, ma c'è MP9 Ma lo scopriamo Dai, dai, raga, ma porca troia, oh Ma queste finestre del cazzo, mamma mia, oh Dai, mi stanno facendo killare da quelli toss Che facendo killa zio che sta camperando sul cazzo di loadout e la finestra non andava Da dove, puoi venire ora? No, guarda dov'è, guarda dov'è a camperare No, a caso M'hanno invitato, siamo entrati giusto per fare qualche partitina così Non l'ho fatta io, mi hanno invitato No Come? Comunque voglio con due colpi, eh Boh, l'hai visto Eeeh, c'hanno i shit No, ho sbagliato un altro Abbiamo gente a stronghold, ragazzi Scura Che sta parlando, Forbix? Ma insultano perché sono dei babà Sperano di un'altra cosa Alcuni stanno bruciati Vivono di questi Non esistono i shit Oh, non è questo qua Ah, sono andati via da qua Sono saliti Oh, ce l'hai sopra, Piru Mamma mia, stanno tutti attaccati E' normale che stanno tutti attaccati Mi lascio, mi lascio, mi lascio E' normale, mi lascio, mi lascio Mamma mia questi forti Sono sotto, sono sotto Non lo rischiare, non lo rischiare Aspetta cinque secondi Quelli sta morendo, eh Vabbè, siamo rinati Dopo oggi pomeriggio Ho usato l'XM4 Con un'arma da push Lottando con il città Possibile, una bomba No, è forte, eh Lo sto usando anch'io Lo stavo usando anch'io l'XM Non è male Boh, non lo vedo pulito Ormai Non vedo l'ora che esce l'uomo Coddo, sincero Almeno per Penso i primi mesetti Sarà pulita La situazione Poi Torneranno Però Almeno i primi mesi Sono puliti Vedo, ti scomparco Ah, mi aspetta E' one-shotissimo Non so come farmi andare a terra Sono andata voi Non ti ha insultato? Sì, sì Ah, ok Ha insultato anche te Perfetto E' proprio Abituto Mi sa che entra Mo' Piro Là in fondo No No, ma perché vai a pusciare lì fuori, bro? Arrivo Dammi un attimo Stai entrando uno Eh, sono due Eh, non riesco a perdere niente, bro Sono morto Non c'ho manco le piastre Non c'ho manco le piastre Eh, lo so Ma mi aspettavo che andassi a terra No, peccato Eh, ma ero one-shot Ero one-shot No, c'aveva il Blixen Ero one-shot Eh, per forza Eh, vabbè Ah, inizio ad essere stanco pure io No, da lontano L'ho imposta per pushare Che senso? Non ho capito Non ricordo se quando c'era la mappa In città Su Royale E Mallop Esisteva già Rebert No, mi sa che a inizio proprio Non c'era Rebert, no? C'era solo Verdas All'inizio con Mallop Poi l'hanno messa dopo Mi sa che l'hanno messa dopo È un bel film Bella, bella No, io vado già a mo' fra Sono stanco Basta Ci faccio più Ma che raga stacco anche io Allora, buonanotte a tutti Bella, Piro Buonanotte Buonanotte, ragà Buonanotte Allora Mi dicevi Il fatto delle armi Sì di base Potrei applicare i progetti Eh, i progetti li puoi applicare Cioè, se per esempio Tu un'arma non ce l'hai livellata Puoi usare un progetto Però non conviene Perché di solito i progetti Non è che sono chissà quanto buoni Torna con l'NZ e l'H4 Ce li ho? No, lo so Ah, cavolo C'ho l'NZ Ma con il Il Marco qua Dici Però l'arma guerra è forte da vicino, eh Se no c'ho carabina H4 Però una NZ H4 pure da fare Che non è malaccia Comunque come classe Io comunque La K Non è male Fra La K47 Non è male Pure quella mi piace Secondo me ce ne sono Ce ne sono varie armi Forti comunque Sono varie armi forti Il Kilo qua Non mi piace Questa Io modificherei questa In realtà Metterei la K qua Dov'è Wild grab C'è stato un periodo in cui si usava Eccolo Come mi pare C'avevo la canna da Questa qua C'avevo il soppressore crew 45 colpi Sotto canna Mi pare che era Lo sprint Sdeghede L'ottica questa Era così il set Vedete un attimo Oppressore crew La spezznaz 20 ce l'ho Spezznaz Impugliatore Quanto ci ho colpi Eccolo era così Ok E poi L'H4 Eh l'H4 Io l'avevo settato Con questo Convoiatore Lastra riflettente Rimosso Qua c'avevo questo Poi c'avevo i Mi pare che i 72 Con punta cava Impugliatore Impugliatore Non mai ricordo Fettuccia Penso fettuccia Poi qua c'avevo Velocità Scattante O stabile Non mi ricordo Io penso scattante Vabbè non è il caso Scattante celerità Blah 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 Vai 1558 No l'ho provato Non fa il danno Che faceva all'epoca L'ho settata Senza calcio Con monoblocco Con 45 colpi Come se fosse una mitraglietta Eh ci può stare Però poi da lontano Come spari Da lontano Che usi poi Ecco io praticamente Non so come equipaggiare Le armi del bando Le acquistate Ma praticamente Tu vai qua Tipo Fai tipo Il grau Ok Vai sul grau Armeria Vedi a fianco C'è armeria E ti escono i progetti Tu basta Che clicchi Su un progetto E lui Te lo mette Ma non lo faccio Che sennò Se le va al settaggio Però Tu clicchi Su un progetto Lo metti Ti compare Poi torni indietro E qui Ti compare Il progetto Che hai messo Poi se tu Vuoi modificare L'arma Anche se c'è Il progetto inserito Puoi farlo Vai su Armaio E la modifichi Come vuoi tu Però devi avere Ovviamente Gli accessori sbloccati Devi avere L'arma livellata Allora Hanno rovinato Tutto il gioco Con queste armi Di Vanguard Allora Il problema Che io dicevo Dall'inizio Quando all'epoca C'era L'aggiornamento Che stava uscendo Il nuovo code Dissero già Che volevano Mettere le armi Di quel code Su questo Io dissi No fra Non dirmi che lo fanno Perché secondo me Fanno una grande stronzata Perché non si capirà Più niente Tutto squilibrato Cioè Ci sono delle armi Di un call of duty Che sparano in un modo Queste sparano in un altro Ma che casino fanno Alla fine fece L'aggiornamento Inizialmente successe Questa cosa qua Che c'era Tutto squilibrato Le armi Tutte che Poi aggiustarono Si arrivò a un punto In cui C'era equilibrio Tra le armi Di due call of duty E il gioco Funzionava Poi Usci Vanguard Mappa nuova Macello Macello Successo è un casino Totale Macello Di nuovo E io dissi Quei sono pazzi Perché già hanno fatto La pazzia di mettere Due code Insieme Ne mettono tre Insieme su Warzone Sono pazzi Tanto è vero Che dopo il gioco È andato a calare Di botto E infatti Il nuovo Warzone Che uscirà Già hanno detto Che non vogliono Assolutamente Immischiare Gli altri call of duty In mezzo Quindi il code Che uscirà Il 28 ottobre Faranno il Warzone Su quello Ma non Quello Warzone Lì non verrà toccato Con altri call of duty Hanno capito Che fa una cazzata Più grande Il mondo Perché già hanno visto Che Ma è assurdo Ma è impossibile Pensare di mettere tre Giocchi in uno Ma viene una schifezza Vedi un attimo Beta Regà In teoria Oggi è 8 Ci dovrebbe essere La beta Dei call of duty Eh Eta call of duty Vabbè Beta Quando inizia la beta Allora La data di uscita È stata fissata Il 28 ottobre Ok Quando inizia la beta Il che succederà Durante la finale Call of duty 7 agosto Come 7 agosto Ah non è più agosto È settembre Mo La beta è a settembre Oh io mi ricordavo Che avevano detto agosto Forse hanno cambiato No Cioè è uscito un video Scusate un attimo Scusate un attimo Ah Settembre Beta Ok no 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 Allora la beta Ufficiale È a settembre Allora da playstation Il 16 e 17 settembre E per chi ha prenotato Poi aperta a tutti Dal 18 al 20 Solo per playstation La seconda settimana Sarà aperta a tutti Per pc più xbox E per playstation 22 e 23 settembre Ah no Solo chi ha prenotato Il 22 e 23 E però per tutta la playstation 22 e 23 Settembre 24 e 26 Aperta a tutti Ok Quindi raga la beta Ho detto una cazzata Però all'epoca Dissero che era agosto Hanno sbagliato Infatti hanno cambiato Allora È settembre la beta E mi stavo organizzando Perché in realtà La playstation La playstation Ce l'ho Quindi in realtà Potremmo portarla Eh però c'è un problema Il 16 e 17 Solo per chi ha preordinato Mi dovrò comprare un codice Mi sa che porteremo Un nuovo codice Dalla playstation Inizialmente Per la beta E poi Vabbè Poi Dal 22 settembre La possiamo portare Sul computer Perché il 22 settembre Lo mettono Per computer Anche la beta Però la prima settimana È solo playstation Esclusiva Assurdo bro Dobbiamo ricordarci Sta cosa Ti muoco La marco voli Con mp5 Ma non muori Marco ancora non male Però Non mi piace più Come prima E soprattutto Come di squadra Ha capito che vi stavo Streamsnapperando Ma volevo solo farmi Chilare da te Per salutare Ma frainteso Ah non lo so Fra Sinceramente Non stavo seguendo Non lo so Vergognati Comunque Se stavi streamsnapperando Vergognati 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 Non lo so Non ci ho fatto caso A sta cosa Vabbè Che volevo dire Niente raga Quindi settembre C'è stata la beta O a breve In questi giorni Ci sono le world series Non so se riesco a partecipare Non trovo ancora i compagni Mio dio Vabbè Vedremo Vedremo Speriamo bene Io regalo In frattempo Detto questo Lunedì Sì ci sono Ci vediamo Non so se dirvi domani Vabbè Più tardi in realtà Perché già lunedì L'hai in serata Sempre verso Le nove e mezza Dai ci vediamo Le nove e mezza Io vado a dormire Ci si becca Più tardi Ringrazio per il tuo consiglio Per settare il pad Di nulla Di nulla Buonanotte Adrian Buonanotte a tutti ragazzi Ci becchiamo alle nove e mezza Un bacione Regà Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti